Ma ci siamo, ci siamo e come vedete accanto a me anche questa sera non sono da solo ma c'è Mick Podelli, Just Mick per gli amici. Ciao, ciao, buonasera, buonasera. Ciao. Ciao, 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 ciao. Eccoli, eccoli che arrivano. Ciao Doc, ciao, ciao. Ciao Ombres. No, ecco, allora, giustamente, io questa sera Mick in realtà è venuto per farmi fare una figurazza, nel senso che, come vedete, lui c'ha lo sfondo figo e io c'ho i poster che uso con i bambini per fare lezioni. Poi, sì, sì, esatto, molto originali. Webcam figa, va bene, in realtà tu utilizzi una signora macchina per fare, insomma, la webcam. Che cosa usi tu? La Sony Alpha 7 III, praticamente quella con cui faccio i video. Cioè, dovrai, avrai la Canon M50, avrebbe molto più senso da usare, più piccola, più tranquilla invece che ogni volta fare un casino, ma non ce la faccio, cioè ho proprio bisogno di... Tu quando devi sparare, devi sparare col bazooka, non puoi... È una malattia ed è pieno, sono pieno di problemi da questo punto di vista, perché non ottimizzo per niente proprio. Ma l'importante è saperlo, ecco. L'importante è questo, essere consapevoli, esatto, dei propri problemi. Bene, bene, ragazzi. Allora, questa sera, in realtà, io è da un pezzo che faccio la posta a Mick per portarlo qui sul canale. Eh, adesso non me la tiravo mica, dai. E quindi, no, 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 infatti, sei super gentile e giustamente, visto che in questo periodo, appunto, c'è questo surplus di dirette su Instagram, su Twitch, dappertutto, noi giustamente facciamo un'altra diretta, giusto per complicarci le cose. No, no, e quindi abbiamo detto, dai, almeno una chiacchierata ce la facciamo in tranquillità. Questa sarà una serata, appunto, molto, molto tranquilla. Io, più che altro, sono curioso di sapere, Mick, che cosa avviene a fare qui su Twitch, che anche lui da poco ha iniziato. Io sono curioso di saperlo. Eh, no, infatti, si vive, si vive e si scopre. Ciao, ciao, Vale, ciao, ben arrivata. Ciao. E scopriamo un attimo che cosa ci permetterà di fare Twitch nel futuro, insomma. Anche tu sei in fase di sperimentazione, immagino, no? Sì, cioè, io dico così e poi non mi do il tempo. Cioè, potevo prenderla un po' più, tipo, in rampa e invece mi sono proprio incasinato le cose. Tanto che ho così tanti tasti e così tante cose da seguire che le mie live diventano… Devo essere una piovra per poter toccare tutti i tasti. Ogni volta faccio qualche casino, però è la parte divertente, insomma. Ecco, ecco. Devo avere ingoiato un moscone da 10 chili. Eh, proteine, no? Perdonatemi. Sì, sì, no, è infatti buonissimo. Ciao. Ciao, Aucra. Non riesco neanche a parlare. È un problema se fai parlare solo a me, perché andiamo avanti 4 ore. Se vuoi ti posso aiutare io in questo momento. Vi posso aiutare io dalla regia in questo momento. Non mi vedete, ma ci sono. Ciao, infatti, approfitto per ringraziare Luigi. Esatto, sì, tipo Gelapas, esatto. Che ci sta dando una mano anche questa sera, perché, come vedete appunto, i problemi ovviamente sono i miei, cioè è tutto nella norma. Sapete che io problemi ne ho, sia personalmente che tecnologicamente. Quindi è tutto normale, ecco. Ciao Debu, ciao, ciao Aucra, ciao D01, ciao, ben arrivati. Mick, mi tieni in compagnia anche stasera? Interagisco più con te che con i miei congiunti. Grande, Vale. Direi che se hai una relazione stabile, abbastanza duratura, si può anche... Ma guarda, ma io ho tutti i passaggi da Twitch alla fine, darò il mio numero di telefono e faremo delle chiamate con tutti. Esatto, delle call di gruppo, ma sì, ma sì, ma infatti stiamo qui a tirarci, a che senso ha? Niente, non mi ricordo cosa stavo dicendo, però mi è venuto in mente che se c'è qualche matto che non dovesse ancora conoscerti, si potrebbe fare una presentazione. Ora, siccome io non voglio sparare castronate, perché quello che fai non è assolutamente facile da spiegare, io ti chiedo un'aiuto. Cioè, se tu... Allora, facciamo così, facciamo un gioco. Se tu volessi descriverti e dire cosa fai nella vita in non più di tre parole, cosa diresti? Sono uno storyteller. Perfetto, ok. E anche secondo me questa è la definizione che ti calza meglio, ecco. Ma nella vita che cosa fai? Allora, io ho uno studio che realizza installazioni immersive, sensoriali ed emozionali. Possiamo mettere tutte le paroline magiche, ma alla fine è uno studio che crea installazioni per lo più audiovisive, quindi utilizziamo per lo più quei due sensi lì, con degli effetti ottici, sitemi di videoproiezione, eccetera, altamente tecnologico, che però punta a un obiettivo specifico che non è quello di fare semplice spettacolo, ma di creare stati emotivi, come si può dire, più di influenzare gli stati emotivi delle persone, crearli, no, assolutamente. Però, diciamo, quando abbiamo da fare un'installazione per un cliente, per un museo, per un retail, eccetera, tentiamo di pensare come le persone originariamente entrano nel nostro percorso e come farle uscire. Per cui ecco, le neuroscienze sono state una delle tematiche che mi ha accompagnato negli ultimi tre anni, perché il concetto era creare emozioni e per cui come fare a creare emozioni è una cosa che diciamo tutti, ma in verità poi nessuno si chiede come funzionano e quindi volendo essere un po' corretto, diciamo, nel modo di fare, ho detto, vabbè, meglio che studi un po'. E da lì è partita una tangente su tutta un'altra aree, che è appunto quella delle neuroscienze, che mi ha talmente coinvolto da aprire poi un canale YouTube a caso, dove in sostanza con un po'... Ma guarda, a me non capita mica tanto spesso di fare le cose a caso, ma solo quando le faccio a caso funzionano. Questa è proprio un classico. Questo dovrebbe lasciare, farci ragionare, insomma. Sì. E comunque, se da una parte, comunque utilizziamo, noi diciamo sempre arte, storytelling, tecnologia e scienze, non mi piace dire solo neuroscienze, anche perché è una parola che viene sempre travisata, utilizzata proprio ovunque, perché è trendy, non mi va. E dall'altra parte, col canale, mi piace dire che sono uno storyteller, perché oggi ho la passione delle neuroscienze, ma io tendo ad avere molte cose per la testa, per cui oggi può essere neuroscienze, domani può essere, per esempio, la fisica quantistica, la adoro. Ti sei bloccato, però ti sei bloccato in stile quadro, quindi... Ah, ecco ti sei tu. Sì, sì, no, infatti. Ma infatti devo mettere un cartonato. No, perché la cosa bella è che mi è caduto il cellulare, quindi si è disconnesso tutto. Ma non importa. Beh, ma guarda, dal momento che siamo tutti sempre online, diventerà un'arte anche quella di bloccarsi in posizioni perfette. Esatto, bisogna sempre stare seri, così guardare fisso, sorridendo, così anche se si blocca. Beh, io quando facciamo le cose su Zoom con gli altri ragazzi, con gli altri YouTubers, mettiamo... c'è stato un paio di volte che abbiamo messo le nostre immagini così e poi ce ne siamo andati via e la gente continuava a parlare, pensando che fossimo lì, quindi è una tecnica anche quella. Sì, no, no, infatti distrai e scappa. Bene, quindi in soldoni Mink fa robe fighissime, detto proprio proprio spiccio. No, allora, infatti a me ha sempre affascinato questa cosa perché non tanto per il risultato finale che credo possa essere apprezzato da chiunque, secondo me, ma per tutta la parte di costruzione di questa cosa che a me affascina molto. Infatti, adesso magari questa sera possiamo anche non parlarne, parlare di tutt'altro, però sicuramente è una cosa che mi piacerebbe fare con te, appunto, averti qui una sera per parlare di come si costruisce una stanza, un progetto, insomma, di questo tipo. Perché secondo me il viaggio che si percorre prima di arrivare all'installazione finale, secondo me già di per sé è una figata, no? Sì, sì, è la parte che a me appassiona. Per carità, vedere poi l'installazione finita fa sempre effetto anche a chi la produce, perché comunque finché è su carta è completamente diverso. Però poi è vero che scoprire, più che altro, sai cos'è? Mi dà un po' la sensazione di poter avere a disposizione un approccio pionieristico. E attenzione, non sto dicendo che sono uno pioniere né che ho un approccio pionieristico, ma che a disposizione ce n'è uno, sia per quello che facciamo noi che tantissime altre persone. Ed è per quello che poi io non riesco a fermarmi alle installazioni, sia con persone che con cose, con contesti, ha sempre un potenziale di essere immersivo. È solo che ad oggi l'immersività viene sposata con la parola tecnologia e basta, che non c'entra niente. L'immersività è presenza, quindi anche in ambito neuroscientifico la presenza è un'altra cosa, cioè si definisce in un modo ben specifico. Per cui a me piace che il percorso per capire come rendere le persone attente, stimolate, nel qui ed ora, dimenticando i problemi e vivendo al massimo una situazione, avesse sì a che fare con dei mezzi come possono essere i sistemi audiovisivi, tanto quanto tu puoi creare la stessa situazione parlando a una persona, leggendo un libro, mostrando un quadro. Cioè ci sono 20.000 diversi modi di comunicare e la comunicazione in generale tra persone e persone, tra persone e cose, persone e contesti, può provocare un'immersività, quindi una condizione per cui tu vivi al massimo una situazione. E quindi io sto scoprendo che nell'ipotizzare un percorso emozionale, chiamiamolo come vogliamo, a me piace un termine che si chiamano narrative environments, adesso l'ho detta un po' italianizzato, narrative environments, cioè contesti narrativi alla fine. Le tecniche che utilizziamo, sì, io le ho prese dall'ambito delle scienze cognitive, ma in verità c'è tanto di buonsenso, c'è tanto di unire, rendere complementari delle tecniche, delle scienze diverse, pubblicazioni varie, e tu unendo i punti dici cavolo ho anche quasi la prova del 9 in alcuni casi che questa cosa può funzionare. E ti faccio un esempio, tanto per non essere troppo teorici. Quando noi creiamo un'installazione immersiva, il primo passo più importante, che è quello che tento sempre spiegare ai clienti, è quello di portare le persone nel qui ed ora, cioè una detta proprio semplice. Cioè tu poi, i clienti o comunque chiunque ti commissiona qualcosa, pensa sempre che più tecnologica è la roba, più funziona e basta. Come se in un film tutto quello di cui tu hai bisogno è un climax e basta. Quando in verità per poter vivere quel climax al massimo, tu devi preparare le persone. Lo fai anche tu. Deve essere un crescendo. Esatto, esatto, deve essere pian piano un crescendo. Spesso faccio anche il paragone dei parchi a tema che insegnano. Infatti l'arte, tra virgolette, o la tecnologia del video mapping, che sono queste proiezioni che interagiscono con le geometrie, nasce nei parchi a tema. I parchi a tema sono quelli che più in largo anticipo utilizzano tantissime tecnologie di, come si dice, di intrattenimento. Cioè se uno vuole nel mio mondo essere avanti, dovrebbe farsi il giro dei parchi a tema. E una delle prime cose che noti di un parco a tema in generale, che oggi è consolidato, quindi non ci pensiamo tanto, ma è il fatto che tu vivi 10 minuti quando ti va bene di esperienza e 40 minuti di coda. È pazzesca questa cosa. Sì, e lo fai tutto il giorno. Per cui tu alla fine ti sei fatto tipo 40 minuti. E fondamentalmente paghi per stare in coda, se guardi solo il tempo. Esatto, per cui ti fai quei 40-45 minuti in un giorno intero e ti fai circa 4 ore di coda. Però i parchi a tema sfruttano la coda come parte più importante dell'esperienza e riguarda creare storytelling durante la coda, aspettativa, countdown, tutta una serie di cose. Quindi questo per dire che la tecnologia veramente è una cosa che passa in secondo piano qui. L'altro giorno ero in una conferenza, facevo da relatore su Andrea Mantegna, ok? L'artista è nato da queste parti e in sostanza si chiedevano, persone del settore, diciamo nel museale, come fare a portare le persone nei luoghi di Mantegna, nel far vivere le esperienze e così via. E classicamente vanno sempre a pensare al luogo dove tutto accade. Io tento sempre, anche se non tiro acqua al mio mulino, però tento sempre di spiegare che prima di tutto dovrebbero pensare all'autobus con cui le persone vanno in quel luogo. Dovrebbero pensare a come le persone approcciano per la prima volta il tema di Andrea Mantegna. E non deve essere in provincia di Padova, deve essere a Venezia, deve essere a Padova, a Milano ci deve essere una connessione tra le parti. E poi tutto deve essere in flow. Se tu guardi Netflix e hai una puntata di un film che ti piace e a un certo punto tra una puntata e l'altra non c'è l'aspettativa per la puntata dopo, hai un motivo per cambiare canale. E lo fai. Intenzialmente lo fai. Il motivo per cui tutte le serie televisive hanno sempre un qualcosa per quello che arriva dopo. Per cui il flow è importantissimo. Sono tutti questi piccoli ingredienti. E per far l'esempio, ho già divagato, ma per far l'esempio di un'esperienza... No, no, ma tranquillo, guarda, questa sera non abbiamo limiti, quindi ti lascio andare a ruota libera, fra un po' spengo il microfono e vado perché è bellissima questa cosa. Non è che io ho questa cosa di conquistare altri canali così, quindi... Esatto, esatto. No, no, vai, vai, facci questo esempio. Sì, allora è semplicemente il discorso di fare un ambiente, quando noi creiamo questi percorsi, il primo ambiente tentiamo di renderlo, e qua do proprio uno spunto per chi fa il lavoro simile al mio, creiamo un ambiente di, dire, deprivazione sensoriale troppo, però dove riduciamo un po' i sensi. Cioè, un ambiente oscurato fa in modo che le persone debbano stare attente a dove sono, cioè si devono orientare. Hanno, per assurdo, stimoli il rilascio di cortisolo, no? Perché di fatto la persona è leggermente stressata e quindi di conseguenza estremamente attenta, ricordiamoci che è l'ormone d'attenzione, e per cui di colpo, per esempio, dimentica la mail, il messaggio, la chiamata, il cellulare, il cellulare lo mette proprio via, a meno che non lo utilizza per navigare, diciamo, però comunque sarebbe nel qui ed ora quel punto, no? Per cui la prima stanza per noi è sempre quella dove costringiamo un po' le persone a rendersi conto che devono stare attenti a dove sono. Lo puoi fare in vari modi, basta che siano sempre molto subconsci, non devi dichiarare troppo. E questo, capito, è una cosa che tu puoi leggere in, probabilmente in pubblicazioni sia di psicologia o neuroscienze, tanto quanto in biologia, tanto quanto in tecniche di storytelling di 2500 anni fa di Aristotele. Cioè, il fatto di prendere l'attenzione dell'audience provocando disruption, provocando disequilibrio, è una cosa che si fa da sempre, cioè il viaggio dell'eroe è questo. Per cui tu quando dici, ok, io ho studiato cinematografia, ho studiato comunicazione visiva, per cui io conosco la storia dell'eroe, il viaggio dell'eroe, però non la sapevo da un punto di vista chimico e così via. Quindi io avevo già un po' qualche input da quello che avevo studiato scienze, altre arti, altre tecnologie che sono complementari alle tue. Tu hai delle conferme, delle prove del 9 che ti danno la possibilità di essere convinto di quello che fai e soprattutto anche di poter dire al tuo cliente che, guarda, si fa così, fai così, perché ti spiego com'è, non è una situazione soggettiva. Quindi riesci anche a difendere bene il tuo lavoro e quindi renderlo più tuo, senza essere in balia di quello che le persone vogliono senza avere oggettività sul tema. Esatto. E questo pian piano mi ha permesso anche, insomma, di iniziare a fare le cose proprio come ritengo che debbano essere fatte. Anche litigando a volte non c'è problema, per questo è l'importante. Sì, immagino, immagino, immagino. Allora, intanto ringrazio D01 per il rinnovo per il secondo mese dell'abbonamento. Grazie, grazie per... Io ancora non so come funzioni sta cosa, per esempio. Deve essere stupendo. Ah, guarda, se vuoi io ti spiego quello, tu mi spieghi come scalare la grafica che arriva alla gente. Perché da noi o 1080 o la morte, cioè non c'è alternativa e quindi devo capire come si faccia a scalare. Qualcuno azzarda un'arte del futuro, forse? Che ne pensi? Allora, guarda, il futuro è sempre relativo, come possiamo notare in questi ultimi due mesi. Quindi potrei rispondere in maniera un po' provocatoria, apposta per creare anche un po' di dibattito, che l'arte del futuro sia un po' affermata in questi ultimi due mesi. Nel senso che per me non è, non sta tanto, non è tanto una questione di avere qualcosa che gli altri non hanno o un approccio che gli altri non hanno. Si tratta di non innamorarsi mai troppo di quello che fai e di essere sempre molto elastico, molto malleabile rispetto a quello che accade là fuori. Senza avere paura, tra l'altro, di scaraventare a terra le colonne portanti su cui si è costruito. Cioè io in questi giorni non vado a dire ai miei clienti che dobbiamo creare installazioni immersive. Non lo dico perché non ci credo, non è giusto, sarebbe sbagliato. Sarei un venditore, i venditori a parer mio non esistono più. Per cui la difficoltà è tentare di capire, ok, com'è che ci possiamo reinventare per usare tutto quello che conosciamo rispetto a un mondo in cambiamento. Per cui già alcune installazioni, alcune cose orientate al 2021, comunque stiamo avendo l'attenzione di crearle in modo che, per esempio, il senso del tatto non sia troppo presente perché non sappiamo quale sarà anche già solo l'attitudine a comportarsi da fuori. E poi appunto con il discorso che tutto quello che noi realizziamo alla fine sono prima di tutto dei progetti creativi che utilizzano quelle quattro colonne importanti di cui ti dicevo prima, quindi arte, neuroscienze, tecnologia e storytelling, può essere applicato a tutto. Io ad oggi una delle cose che mi preme, poi io non lo so come riusciremo a convertire economicamente, però io devo fare così perché sennò sarei falso con me stesso. Però una delle cose che noto è, sai quante persone che anche al di là di Twitch, Instagram come stiamo facendo noi, hanno quotidianamente sei ore al giorno questo tipo di situazione dove sono in videoconference oggi. Sì, assolutamente. Ecco, il primo mese è un adeguamento, quindi tu hai un ambiente assettico tutto bianco dietro, sei il cliente o sei il fornitore, ma ti è giustificato. Dopodiché se sei bravo anticipi le cose, altrimenti le sensazioni cerebrali e corporee comunque vanno avanti, non è che si fermano perché il fisico dice c'è il Covid. Per cui quando tu vedi qualcuno in videoconference, tutto quello che riguarda, sai, come portare la memoria lungo termine esperienza, quindi il fatto che la prima impressione, quando ti vedo, è data non solo da te, da quello che dici, ma anche dal contesto che hai attorno. Per cui una delle cose che mi viene da dire ad oggi è, cavolo, sarebbe da fare una consulenza tra clienti, fornitori, educatori, soprattutto, tu ne parlavamo prima, no? Cioè, mi è stata chiesta la settimana scorsa di parlare a degli insegnanti, poi non ho avuto tempo io perché avevo casino con Martino, ma per spiegare come tentare di provocare attenzione negli studenti utilizzando Zoom o tutte insomma le applicazioni classiche che si utilizzano oggi. E non pensano a, per esempio, il discorso del contesto. Il contesto è importantissimo, cioè provoca una situazione per cui tu sia piacevole da vedere. È importante, non è secondario. Il grande problema che abbiamo in questa era è che più tu hai contenuti validi, più sei giustificato dal non impacchettarli, soprattutto in Italia. Grandissimo errore. L'America fa il contrario, non ha contenuti e impacchetta tutto, no? Li chiamano le false doors. E questo è un dispiacere, infatti, io provocativamente… come cavolo si dice? In maniera provocativa? Ecco, esatto. Io dico sempre dopo le nove, non aspettatevi che io faccio. Però, in maniera provocativa, io dico sempre che un insegnante può provare ad essere più uno youtuber e uno youtuber dovrebbe imparare ad essere un po' più un insegnante. Ovvero, unisci le due parti e hai vinto. Contenuto, intrattenimento, show, contesto. Una delle cose che gli insegnanti dicevano, eh ma perché non ha… come si fa? Non riusciamo a interagire bene su Zoom o sulle applicazioni? Ma scusa, ma uno youtuber interagisce come? Non interagisce uno youtuber. Uno youtuber ha il feedback dopo, ma quei 7, 10, 15, 20 minuti che fai sono una botta unica. Guarda, secondo me ci sono diverse problematiche da quel punto di vista. Innanzitutto dobbiamo renderci conto che quando è stato chiesto, è stato imposto di fare della didattica a distanza, moltissimi professori insegnanti sono entrati nel panico più totale. La stragrande maggioranza dei professori di ruolo sono ben oltre qualsiasi fascia che possa concepire il funzionamento di una videochiamata, quindi lo fanno ma non capiscono quello che stanno facendo. Non hanno avuto neanche il tempo per abituarsi a questa cosa. E quindi abbiamo proprio una, diciamo, una retratezza tecnologica, tra virgolette, da parte di chi insegna. Sì. E dall'altra parte c'è proprio una retratezza tecnologica, fisica, che appunto molti ragazzini o devono condividere il computer con il fratello o devono, non hanno la connessione perché appunto vivono in un paesino sperduto nel mondo come il mio, per dire. Mi stavo detto mi c'era di ragazzini addirittura. Eh sì, 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 sì. Quindi sì, c'è qualche scuola che funziona bene perché riesce appunto a ridistribuire i tablet che aveva appunto in classe e che quindi non venivano utilizzati, però non è così semplice neanche quello. No, no, è vero. Perché poi devi avere a che fare con le famiglie proprio che se non hanno un computer magari può essere per un fattore economico ma può essere anche per altri fattori sociali, diciamo. Quindi non è assolutamente semplice. Poi appunto riuscire quando parli con l'insegnante la... il fatto di interagire, come dicevi tu, con i ragazzi per loro rimane una cosa molto importante e non riescono a capire che... Mi sei scattato. Pardon? Ci sei? Mi hai risaltato. Nel momento in cui tu vai a parlare tramite una piattaforma come Zoom, come Meet o quello che è, ovviamente tu non hai... non puoi avere lo stesso contatto perché se no diventa un casino. Dovresti lasciare tutti i microfoni accesi, non si capisce più nulla. No, no, è verissimo quello. Poi c'è un'altra cosa opposta che mi ha fatto tanto ridere una volta che non ha valore in questa conversazione ma che eravamo tutti insieme in questa live e si diceva cavolo stiamo tutti guardandoci tutti negli occhi perché in verità hai tutti davanti a te, quindi c'è nessuno che ti scappa. Però no, allora quello che tu dici è vero e poi io sai, credo a ognuno il suo ruolo in un certo senso, io dove posso dare il mio è hai a disposizione il mezzo, ti dico come potenziarlo. Credo anche che sai nel discutere questo tipo di problematiche poi tanta gente si difende dietro queste problematiche quando in verità avrebbe la possibilità e l'accesso per fare le cose fatte meglio. Io comunque ho assistito due settimane fa, eravamo in 300 in Zoom con un'università, non faccio il nome né niente per correttezza, ma non si capiva niente, il professore era, non so se eri uno sgabuzzino dove fosse, ma è una cosa tremenda e poi lì vedevi anche, il punto è analizzare le cose come sono. Poi è ovvio che ci sono problematiche, puoi capire il perché eccetera, però tu noti un paese da un punto di vista, perché c'è anche da dire questo rispetto magari a qualche altro paese che è un po' più evoluto in questo senso qua, parlo a livello tecnologico e di abitudini, ma c'era lo sbaglio, quella volta di 300 persone c'era gente che apriva Zoom per ascoltare il professore e aprendolo con il cellulare non aveva la minima idea di cosa stava aprendo, per cui apriva anche la telecamera e io ho dovuto guardare questo professore con a fianco questa ragazza con i sandali, con le calzette dentro che continuava a puntare i sandali, perché in verità stava guardando. Stava guardando. E quindi è ironica la cosa, è divertente, però poi lì dici, c'è tanto da fare, nel senso puoi veramente fare consulenza a molte persone a questo punto di vista e lì è veramente una questione di dire guarda, ascolta, spegni la telecamera oppure mettiti quelle poche cose. Poi la verità è che oggi non è tanto da paragonare a una situazione di guerra perché è diverso, però quello che è simile è il fatto che comunque indipendentemente da tutto i tempi sono crudi in questo senso qua, cioè o reagisci oppure non ci sarà chi raccoglie anche gli ultimi. In questo periodo qua secondo me non accadrà così neanche dal punto di vista economico e aziendale, per quanto si tenti sempre di dire eh ma aiutiamo, aiutiamo, aiutiamo. Moriranno, si diceva, il 20% delle aziende entro fine anno, sono un numero stratosferico, sbagliassero anche di un 10%. Cioè ci sono delle situazioni per cui forse è meglio reagire immediatamente e poi tante cose ovviamente sono date dal passato, quindi come dicevi tu, ok abbiamo i professori che non hanno la capacità in molti di adeguarsi alla tecnologia, bene abbiamo due problematiche, uno i professori troppo anziani, ok rispetto ad altri paesi è un po' così e di conseguenza queste cose qui, per cui, perché per assurdo se ci pensi, noi abbiamo ad oggi tutte le possibilità dal punto di vista educativo di, per assurdo, perché in fondo è un ottimo risultato di andare a ovviare al problema e continuare comunque a rimanere tutti connessi, cioè non possiamo dimenticare il fatto che in questo periodo noi siamo tutti chiusi in casa ma siamo tutti connessi con tutti, a parte chi ha meno possibilità e così via, però vuol dire che i mezzi ci sono, si tratta di muoversi anticipatamente, qualche paese l'ha fatto prima, qualche paese dopo, quindi per esempio anche la connessione internet, no ne parlavamo noi anche questa sera partendo, se da un punto di vista è un problema, io penso che da un altro punto di vista sia anche un'accelerazione, perché comunque tutte le aziende devono sopperire a delle necessità, per cui io mi aspetto le grandi aziende, Vodafone, un team, la 3, che mi aspetto, intendo che è come mi immagino io che andranno le cose, che con piani collegati al governo creeranno delle situazioni specifiche per accelerare fortemente tutto quello che è connessione in generale, perché ne abbiamo veramente molto bisogno. Diciamo che la cosa buona che potremmo cogliere di questo momento assurdo che stiamo vivendo è proprio questo, cioè riuscire a sviluppare in maniera più rapida tutto quello che abbiamo frenato fino adesso, quindi ad esempio l'adeguamento dal punto di vista soprattutto scolastico della tecnologia potrebbe essere una cosa da fare istantaneamente. Ovvio che non possiamo pretendere che paesi imbucati improvvisamente abbiano il 5G o che gli facciamo passare sulle mongolfiere di Elon Musk con lo scambio dati Wi-Fi a bomba. Ovviamente no, però già il fatto che magari a scuola non abbiano più il computer con Windows 98 ma abbiano un computer decente e uno a testa invece che uno ogni 15 studenti potrebbe già essere un passo avanti. No, infatti poi l'altro giorno stuzzicavo con, di nuovo è un parallelismo, quindi non è che va preso, non va attravisato quello che sto per dire, però è la Apple che esce con l'iPhone economico. Per questo dico non va attravisato perché economico non è merita se è un eutomismo. Ecco, quindi però intanto non l'aveva mai fatto prima. Allora, ovvio che non è che ha creato un prodotto apposta in tempo zero per, ma per esempio può essere anche abbastanza varia, tra l'altro ne parlavo con una persona che insomma è in una grande azienda simile e proponevo, ma sai, magari questa cosa qua loro ce l'avevano pronto per la produzione o come idea e semplicemente il momento Covid, il momento situazione odierna gli ha fatto dire ma sai che c'è? Se buttiamo fuori oggi questo tipo di prodotto forse può avere più forza che più avanti o comunque farlo iniziare ora può avere più forza magari nelle vendite più avanti. Cioè, cos'è che voglio dire con questo? Non che, ah che bello, grazie a Apple ci hai risolto tutto, no. Però che le aziende in qualche modo, insomma, io con qualcuna ho a che fare, si stanno subito adeguando. Cioè, ieri parlavo con un'agenzia di marketing che diceva, e questo magari è in senso negativo, ma comunque vuol dire che ci si sta muovendo, che quando fai i piani marketing 2020-2021 per le aziende ora deve mettere un risk assessment dentro per dire, guarda, questo è se non si torna di nuovo in fase 1 e potenzialmente si potrebbe tornare in fase 1 altre due o tre volte. Quindi non ti posso fare un piano da milionate di euro se non mettiamo questo piano B in funzione per sicurezza. Per cui tutti si devono muovere in argomanticipo e le aziende ora hanno anche tanto tempo proprio per fare teoria, no? Perché possono muoversi. Esatto. Poi c'è anche una questione di avere la vista lunga perché di fatto moltissime piccole aziende in Italia non hanno alcun tipo di prospettiva, cioè vivono sul presente, su quello che fanno adesso e non concepiscono nemmeno la possibilità di fare dell'altro in futuro. Cioè questo è quello che facciamo e noi faremo questo finché tiro a campare, cioè non c'è neanche la possibilità di provare a fare dell'altro. E credo che un po' tutti noi, cioè chiunque si vada in cerca di lavoro può scontrarsi con questa realtà. Soprattutto se magari fai un qualcosa di un lavoro, cioè proponi un qualcosa di particolare, di più creativo o di moderno, come ad esempio, che ne so, molto banale, 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 vengo a farti la pubblicità per la tua azienda oppure ti propongo un servizio di streaming per il tuo evento, non capiscono di cosa stai parlando, non sono disposti ad investirci, non hanno idea di quale potrebbe essere il ritorno economico d'immagine, cioè non sanno di cosa stai parlando. Quindi è anche difficile, da quel punto di vista in Italia, secondo me, riuscire a proporsi perché le aziende sono un po' chiuse su se stesse. E il problema è che una grossa azienda come Apple poi ti mangia viva. Perché ovviamente magari l'idea di... Anche tu, piccola azienda, potresti magari lanciare il tuo telefono figo che funziona da Dio e costa poco, e magari sarebbe anche la volta buona che prendi la rampa e cominci a salire, però ci sei arrivato troppo tardi. Infatti, ma guarda, questo... La puntualità è un grosso problema. Sì, beh, il time to market o comunque il timing generale nell'azienda è il primo punto e il più importante. C'è anche un TED che spiega bene questa cosa. Ma il punto è che neanche prima del Covid questa cosa qua si chiama vaccina comunque, no? Cioè almeno qua in Veneto, per esempio in Triveneto, c'era tantissimo il discorso di prendere aziende estremamente tradizionaliste, ma è anche normale che siano aziende conservative. Siamo un paese vecchio, anche in senso positivo, no? Per cui è più difficile il cambiamento. Però se non ti muovi per tempo la Cina arriva e tante aziende hanno già chiuso per questo motivo. Però io sentivo... Ho fatto una volta un talk con Giuliano Noci che è il Politecnico di Milano con la connessione con la Cina. Lui è spesso in Cina e insomma lui va sempre dicendo potete prendere o no quello che io dico e dire che non è giusto, che è giusto. Però insomma chi farà, chi si muove e chi non si muove viene spazzato via. E come tutto funziona sempre nel mondo è una questione di adeguarsi al contesto, no? Quindi in qualche modo le aziende che riusciranno a piegarsi e a reinventarsi in funzione di quello che sta arrivando si salvano e le altre moriranno. È bruttissimo ma è questo che dicevo prima del sapore un po' da guerra. Cioè che non siamo in quella situazione in cui verrai raccolto lo stesso da qualcuno. Siamo in quella situazione dove chi cambia cambia e chi non cambia è quasi... Adesso dico una cosa veramente provocatoria ma è quasi come dire destino. Cioè nel senso se non fai... Se non ti aiuti nessuno ti aiuta. Per cui io capisco che ci sono sicuramente... Questo è tristemente vero. Ci sono sicuramente aziende che fanno più fatica, che sono più svantaggiate. Ma a chi vuoi dare la colpa? Cioè a volte, e questo lo si dimentica spesso, è proprio il contesto, la situazione, la sfiga. Cioè ti puoi trovare semplicemente nel momento sbagliato e purtroppo però è così. Non puoi dare colpa a nessuno. Questa cosa qua me l'ha insegnato il trading quando sono partito con una delle mie tangenti e il trading su ricretto valute. Cioè tu puoi far giusto o sbagliare ma alla fine ti puoi incazzare con il destino se credi nel destino e con te stesso. Non c'è neanche tanto altro che poi... Sì, ovviamente se poi governo o chi ti governa eccetera ha sbagli a qualcosa allora puoi anche lamentarti. Però io lì sono dell'opinione che o comunque decidi di reagire nei confronti con la situazione quindi o cambi il paese o fai la rivolta oppure se decidi che vabbè però non è giusto ma decidi di star lì allora a quel punto rimboccati le maniche e pensa a ciò che puoi cambiare e non quello che non puoi cambiare perché sennò perdi risorse per niente. Assolutamente, sì, sì, sì. Sì, allora dico ai ragazzi in chat assolutamente è un discorso molto complesso soprattutto la scuola in Italia è un discorso assolutamente estremamente complesso quindi insomma adesso affrontarlo così all'acqua di rose sarebbe alquanto rischioso. Però sì diciamo che è tutto un po' una situazione in cui si vede poi chi è chi riesce a accogliere l'occasione diciamo e chi no ecco quindi speriamo di essere un bel po' accogliere l'occasione a fare qualche postetto avanti invece che qualche posto indietro ecco Ok, per molti di loro il mestiere dell'insegnante finisce nel momento in cui fanno la loro lezione ma nemmeno per cattivare credo sia più un gap generazionale nemmeno di età Sì, sì poi vabbè c'è una lunga discussione sulla scuola che effettivamente è sempre un po' come sparare sulla croce rossa se mi passate il termine Ci siamo? Improvvisamente non vi vedo più Luigi? Ok riproviamo magari gli è caduta la connessione Ok io intanto provo a ricontattare Mink vediamo se lo ricevi in teoria dovrebbe avere dovrebbe avere il link di prima che gli ho dato però potrebbe non averci più quindi allora facciamo così glielo invio glielo invio nel frattempo allora esatto questo lo cancelliamo e gli mandiamo il nostro link che non riesco a copiare da qui lo prendiamo lo prendiamo da qui ok almeno questo dai ok non ho capito no ok 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 eccolo qua il link inviamolo 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 tutta nel frattempo ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato anche nella live di ieri sera insieme a roberto cighetti e andrea di vita zero kelvin quindi qualora qualcuno in chat volesse recuperare la live la trovate la trovate sul canale salvata in evidenza eccetera eccetera quindi fatevi un fatevi un giretto abbiamo parlato dell'inclusione e le live sulla scuola e sull'insegnamento sono abbastanza frequenti qui sopra dal momento che insomma è un argomento che teniamo molto al cuore di cui tra l'altro più di qualcuno di noi si occupa insomma quindi allora mica dovrebbe essere in arrivo ok non appena arriva dovrebbe arrivare non appena arriva io lo accetto ok allora io intanto mi leggo un po' di chat perché c'erano dei discorsi interessanti ad esempio beh intanto saluto Yelena che è arrivata ciao 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 benvenuta buonasera anche Francesca ciao ci sarebbe da trovarci per una pizza o una birra a passarci la serata a parlarne eh sì esatto potrebbe potrebbe finire male perché tutta una serata a parlarne di scuola potrebbe finire male emergenza covid e nuove sfide scuola tecnologia sì assolutamente ma in realtà diciamo che c'è un po' una cosa un qualcosa che ci è scoppiato in mano non eravamo non eravamo preparati e vivevamo nel nostro mondo felice pensando che non sarebbe mai successo nulla di male poi nel momento in cui siamo stati obbligati a fare il passaggio c'è chi l'ha fatto fondamentalmente e chi ci ha messo molto tempo e ancora oggi fa molta fatica a fare passaggio ciao bio ciao io sono nuovo su questo canale di che vi occupate che scienziati siete allora che scienziati siete abbiamo il neuroscienziato qui in in regia dalla regia con furore abbiamo io che sono un biomedico diciamo poi abbiamo un biotecnologo che è il dottor Cighetti poi abbiamo una storica dell'arte abbiamo una nutrizionista e poi chi mi sto dimenticando è Agnese che è un'archeologa una storica archeologa no diciamo che ecco Agnese e Tea hanno questi punti di incontro sulla diciamo sulla storia e su sulle cose anzi ecco una cosa molto interessante di cui si occupa Agnese spesso fa delle live un po' sul fantasy sulla costruzione di personaggi di fantasy delle lingue fantasy ne ha fatta una molto interessante su come si crea una nuova una nuova lingua come ad esempio quella utilizzata da Tolkien piuttosto che da altri scrittori fantasy adesso io sto cercando di capire se 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 ha ricevuto il post vediamo se l'ha ricevuto però non mi dice nulla per cui potrebbe avere anche problemi quindi io nel frattempo mi collego da qui vediamo se riesco a mandargli un'altra mail giusto per essere sicuri vediamo se ce la facciamo cavolo ragazzi ma solo io faccio l'operaio no 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 ma figurati ingegnere in alto mare eccolo eccolo vediamo 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 eccoti ma io non ho capito non ho capito veramente cosa sia successo che è successo ti ha calciato fuori zoom no sì mi ha cacciato anche fuori zoom c'è una serie di non capisco allora zoom mi ha cacciato fuori il router quello sim di cui ti avevo tanto parlato che bello che funziona che bello che figo c'è proprio caput e il mio portatile ha 16% di batteria nonostante sia in carica quindi adesso ho staccato tutto e ho ottenuto solo alcune cose e dovrebbe andare vabbè insomma ma la serata è così no ce lo siamo detti fin dall'inizio domani mi arriva il tecnico domani faccio 15 live al giorno per vendicare anche perché voglio dire hai fatto più di due ore di live ieri sera quanto hai fatto due e tre quarti tre ore e zero cinque quando mi è arrivata la cosa finale ma la cosa cioè vabbè è fantastica anche perché quando sei nel momento un attimo di down hai fatto partire Andrea che partiva con una canzone ciao persi c'era io mi immaginavo già dalla chat tutti così con le manine sì è stato molto buono io l'ho detto anche non mi era mai capitato cioè io scherzo tanto su questo tipo di situazioni ma poi quando quando uno ti suona qualcosa live ed è anche un artista forte veramente cioè brividi non si può più usare a dire ero proprio bloccato è stato bello no no è quel momento in cui dici ma sì chi se ne frega di tutto lascia andare quello che succede succede ci sta tra l'altro Andrea l'ho conosciuto tipo l'anno scorso l'estate scorso tipo che è venuto qui a Ferrara per un concerto così ma dal nulla io cioè ero lì che passavo ad un certo punto sento la canzone questa canzone l'ho già sentita poi mi giro e dico ma io quello lo conosco non solo la canzone ma anche la persona quindi poi mi sono presentato e gli faccio ma c'è oh sai ti seguo su youtube così ma bello ma tu cosa fai gli faccio ma guarda io sono sono quello che ci prova su youtube diciamo che è diverso però è un'altra categoria però insomma beh io l'ho conosciuto su tiktok cioè io gli ho scritto su tiktok e lui mi aveva scritto su youtube quindi ci seguivamo vicenda ma attraverso social di resta ecco ecco come sei giovane su tiktok mamma mia io provo tutto cioè se no 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 ma hai ragione hai ragione qui c'è gaming cosa ci facciamo su twitch ma infatti ma infatti me lo continuo a chiedere ma ma infatti allora tu hai un qualche tipo di piano di vago orizzonte per twitch o stai navigando a vista allora io ho un sto navigando a vista sto sperimentando e ho anche un piano boh ho un piano che si adegua ogni giorno in funzione di quello che sto capendo considera che non ho ancora capito né come funzioni gli abbonamenti né nulla non ho neanche capito in home page quando tu descrivi quella cosa che c'è lì davanti che è solo un'immagine se in quel momento ogni volta che cambi notifica qualcuno cioè proprio non so come funzioni per niente però una volta che twitch mi dà la possibilità che il mio schermo che ho qui con le mie cose vada online io su quello so cosa fare ieri per la prima volta ho provato i sondaggi mi sono divertito a scoprire che funzionava e spero che non sia quello il modo migliore di fare i sondaggi però intanto provavo quello ma quello che mi è piaciuto è quello che sta dietro twitch cioè tutti questi programmini che permettono di fare regia perché abbiamo un potenziale di fare dei late night show nel senso che tu hai la possibilità di interagire tantissimo che è una cosa che adoro cioè con twitch tu interagisci con le persone in maniera stupenda il primo che è partito in questo almeno in Italia in questo periodo di reclusione di quarantena è stato Alessandro Cattelam che è partito con le PCC Alive esatto lui e i suoi autori sono dei geni assoluti secondo me riescono a essere sempre sul pezzo sempre ma lì perché hai una squadra no? sì esatto gli autori sono oro colato cioè il fatto di dire ok ti invito nel mio twitch però io penso semplicemente alle domande qualcuno per me pensa come farti interagire giocare sondaggi con il pubblico creare squadre nel pubblico online cioè puoi fare di tutto e può diventare veramente divertente infatti invidio molto quelli che appunto che streamano anche solo videogame ma che aspetta riescono a gestire duemila cose in contemporanea che è una cosa pazzesca poi anche loro però hanno comunque una squadra dietro soprattutto quelli grossi hanno diverse persone che gli danno la mano nella regia nella gestione della chat insomma cioè c'è tutto un lavoro dietro e infatti anche questo secondo me è una cosa che non viene capita da chi vive al di fuori che non è una sciocchezza non è facile non è che chiunque possa farlo è difficile farlo e soprattutto farlo bene ed è anche gustoso se ti prendi quello due tre cose che servono per aumentare la qualità inizi anche a spendere poi ovviamente insomma dipende da un po' da che cosa cerchi però dipende da come ti differenzi più che altro io sono del parere che stiamo passando stiamo andando verso un mondo social dove non basterà più fare le live essere online perché appunto c'è competition tra virgolette ma in senso buono vuol dire che non guardo te perché guardo quell'altro perché è più più bello da seguire e secondo me quindi questo forzerà un po' tutti fare di inventarci qualcosa di più Weza faceva ancora qualche settimana fa al mese del video con Monti diceva che no anzi no l'ha fatto sul suo canale YouTube ne parlava diceva io facevo i video su YouTube come fossero delle live alla fine amatoriali via di webcam e dritto e poi è arrivato Twitch e io mi sono spostato su Twitch dice perché lo sento molto più mio ma indipendentemente da questo quando Twitch ha creato il suo spazio come live Weza dice e questo è il suo punto di vista però dice a quel punto YouTube secondo me deve essere qualità e quindi ha detto io adesso mi metto a fare qualità su YouTube poi so io non lo seguo tantissimo ma so che cambia ogni tanto però è una cosa su cui mi ci ritrovo anche secondo me è bello così cioè Twitch può potenziarsi sempre di più nelle live articolate fatte di tantissimi modi di interagire YouTube può essere la cosa impacchettata che guardi al posto di vedere lì infatti è una questione di targetizzazione ognuno c'è il suo c'è chi si trova bene a guardare le storie da 15 secondi e quindi riesci magari anche a seguire un discorso complesso perché insomma nell'ambito della divulgazione su Instagram ce n'è per tutti i gusti però appunto per me da utente non da creatore di contenuti a me è difficile seguire una spiegazione che si interrompe ogni 15 secondi perché anche se comunque è registrato in un diciamo video unico chi parla sa che deve parlare a spot di 15 secondi altrimenti il discorso viene interrotto e soprattutto non può fare un discorso troppo lungo perché sennò vengono fuori due milioni di storie e quindi non riesci a venirne fuori quindi da utente non mi piace molto però vedo che funziona dall'altra parte c'è quello che ti dice ma io preferisco mettermi sul video di YouTube lasciarlo andare per 20 30 anche un'ora ok lo lascio lì me lo ascolto mentre mi faccio le mie cose c'è quell'altro che dice no ma 20 minuti non ce la faccio seguirlo io in 2 minuti 5 minuti deve essere tutto finito quindi giustamente ci sono varie piattaforme che sempre di più secondo me viaggeranno in parallelo per fornire servizi diversi invece di coprirsi a vicenda come hanno fatto fino adesso no è vero è vero beh sì si sta tanto notando questa cosa questa differenziazione cioè TikTok è la è la è la estremizzazione delle tempistiche rispetto a qualunque tipo di contenuto e io sto iniziando a vedere anche qualcuno di 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 forte che sta entrando c'è una ragazza che fa filosofia lì dentro che in un minuto ti spiega le cose ed è molto divertente ma soprattutto perché non devi pensare alla qualità di quello che fai in funzione di un'audience generica devi pensarla in funzione anche di ragazzini per cui parlare di di filosofia in modo giocoso ma facendo in modo che qualche ragazzino sia interessato si possa interessare la filosofia è già finta non occorre che uno torni a casa e sappia tutto di Socrate per cui ognuno ogni ogni social al suo Instagram a me piace proprio nel concetto di attualità cioè del momento non so quanto io non lo farai mai anche se è tutto a disposizione ma non riesco ad andarmi a vedere le storie evidenziate del passato cioè non l'ho mai fatto anche se è tutto bello diviso ma guarda credo tu non sia l'unico assolutamente non ti saprei neanche dire perché cioè non ci ho mai pensato sulla dinamica del perché perché effettivamente anche l'altro ieri ero nel profilo di Zosparkle di Willy perché volevo vedermi la roba sulle Vespe ed è stata forse la prima volta dove sono entrato in un profilo poi entrato sulla storia in evidenza Vespe ho cliccato io credo ci sono due situazioni realistiche in cui si vanno a vedere le storie in evidenza una è la situazione in cui cavolo la storia era fuori ieri sera ieri sera ero impegnato perché stavo facendo dell'altro non ho fatto in tempo vederla me la guardo la mattina dopo e quindi ti ricordi che c'è quella cosa che vuoi vedere ma il giorno dopo già due giorni dopo non te ne ricordi più esatto o altrimenti è una cosa che ti sei salvato perché che ne so ah quando vedo mio zio gli faccio vedere questa cosa così finalmente capisce oppure ah quando vedo il mio amico gli faccio vedere questa cosa perché lo fa ridere allora in quel caso te lo vai a ripescare dalle storie in evidenza se no io onestamente vedo perlomeno per la mia esperienza perché è vero che faccio contenuti molto particolari per cui magari è difficile che uno se le vada a ripescare magari vuole la risposta lampo diretta e quindi dirgli spiegargli ma guarda ne ho parlato tipo sei giorni e ci sono le storie in evidenza non lo capisce molto però dal punto di vista del creatore ti scoccia anche un pochino a dire ma io ci ho lavorato tanto però e quindi forse da quel punto di vista instagram effettivamente non è la cosa la cosa migliore sicuramente un youtube può funzionare può funzionare meglio poi dipende adesso siamo qui guarda io la difficoltà che ho con instagram è che per esempio io su instagram non faccio quasi mai discorsi seri sono proprio pirlaio su instagram tu mi segui martino e le lumache e non è un piano di marketing questo è semplicemente che se io faccio dico qualcosa di interessante ma questo in generale cioè perché anche le storie stupide che faccio ogni tanto comunque provocano molta interazione perché qualcuno mi trova interessante e mi scrivono qual è il problema che ognuno singolarmente scrive a te e quindi tu per assurdo quando fai qualcosa interessante ti trovi il problema di non riuscire a rispondere a nessuno cioè ti si riempie la chat di messaggi e non hai né modo di interagire singolarmente con ognuno perché con il primo con cui rispondi in maniera aperta si intavola un discorso one to one che nessun altro può con cui nessun altro può interagire per cui sono tutte esperienze one to one che non puoi gestire bene per cui devi dedicare tantissimo tempo ed è un peccato youtube già da questo punto di vista migliora perché migliora questo tipo di esperienza perché se io ho la tematica la tematica non lo so della mindfulness io faccio il video sulla mindfulness dopo di che in quella video lì là sotto si può tutti dibattere sulla mindfulness e rispondersi anche l'uno con l'altro telegram ancora di più è positivo in questo senso perché la community può almeno nel mio io faccio anche fatica a dire ciao da quanto da quanto interazione è stupendo quindi interazione è fortissima Twitch è bello perché possiamo proprio tutti discutere questa cosa abbastanza con abbastanza in come si dice in modo anche paritettico cioè nel senso che sì ovviamente chi è davanti alla telecamera ha più forza e è più presente però in verità anche già solo io nei miei live sai che metto sempre i commenti subito davanti belli in grosso e poi adesso cercando dei mezzi più forti perché comunque domenica scorsa ho fatto una live da solo nel senso non da solo senza senza community ma con qualcuno che mi seguiva e queste e le persone che mi iscrivevano io rispondevo in tempo cioè in tempo reale e facevo solo questo quindi non avevo un ospite e mi sono divertito tantissimo ho fatto due ore dove ho semplicemente continuamente parlato con il mio community molto bello sì 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 che bellissimo infatti noi siamo molto autocritici sembra di no magari non lo diamo a vedere ma siamo molto autocritici quindi soprattutto in questi giorni ci siamo resi conto che dobbiamo costruire maggiormente un legame con la nostra community ed è quello a cui stiamo puntando in questi giorni che punteremo nel prossimo periodo insomma nel breve lungo termine e una delle prime cose tra l'altro ne approfitto perché ho visto che Bioscorpio ti ringrazio si è iscritto con Twitch Prime e si è abbonato quindi grazie ne approfitto visto che tu hai delle lacune in quanto abbonamenti ne approfitto per spiegarti questa cosa e lo spiego magari a chi ti sta seguendo allora sostanzialmente cosa si può fare si può fare normalmente quando si segue un canale appunto si schiaccia sul cuoricino e si segue il canale altrimenti si può fare addirittura l'abbonamento l'abbonamento cosa permette sostanzialmente da un contributo a chi stream quindi un piccolo contributo che serve a sostenere il canale a acquistare la webcam nuova se si fonde queste cose dalla parte dell'utente che cosa c'è oltre al fatto di aver aiutato e aver dimostrato insomma l'apprezzamento per lo stream c'è anche il fatto che non partono più le pubblicità per cui non avete più le interruzioni soprattutto inizio e fine ma neanche durante seconda cosa ci sono ovviamente tutti gli sticker abbonati e l'emoticon del canale che quindi adesso noi stiamo finalizzando stiamo creando e quindi a breve avrete ve lo anticipo già sono quasi pronte dobbiamo semplicemente sistemare le ultime cose poi le distribuiremo e quindi avrete tutte queste nuove chicche da utilizzare c'è un sacco di lavoro ma vedrai se ti è piaciuto smanettare sul programma di streaming vedrai che ti piacerà anche fare queste cose aspetta che ne approfitto per rispondere a Bioscorpio su questo perché dice Michi infatti non trovo il pulsante subscribe nel tuo twitch perché io non sono ancora affiliato cioè servono otto ore di live che abbiamo raggiunto ieri alla grande e sette giorni entro il mese sette giorni differenti in cui hai fatto le live e poi 50 iscritti ma quelli li ho già quindi mi manca solo di fare altre tre live dopodiché posso essere affiliato e dopo affiliato so che si diventa anche partner anche se non esatto guarda noi appunto siamo affiliati l'abbiamo raggiunto anche abbastanza velocemente perché fortunatamente avevamo una buona un buon bacino d'utenza e soprattutto essendo in sei capisci bene che farti una settimana piena non è neanche così impossibile tu ormai cioè voglio dire se è questione di ore fai una live in più e vai direttamente a partner senza passare per affiliato praticamente quindi non è non è assolutamente un problema e no comunque sì a quel punto potrei attivare il bottoncino abbonato e tra l'altro sapete che c'è la doppia possibilità potete abbonarvi normalmente diciamo a pagamento oppure in maniera gratuita con Twitch Prime quindi se avete un abbonamento di Amazon Prime in automatico avete un mese gratuito per uno dei vostri canali che a questo punto dovrete scegliere tra il nostro e quello di Mick non è che voglio dire gli altri non li consideriamo nemmeno esatto si può abbonare a metà e metà purtroppo eh no infatti se no ho fatto un abbonamento Twitch Prime da una parte e l'abbonamento pagamento dall'altra eh sì questo è un cioè c'è poco da dire è vero che content creators hanno bisogno di supporto su queste cose soprattutto se si inizia veramente a creare dei veri propri spettacoli uno può continuare a fare le stesse cose e possono piacere ma chi supporta ad oggi è una sorta di coinvestitore una sorta di socio cioè se mi piace quella cosa vorrei che evolvesse e se supporto evolve altrimenti tende comunque a muoversi in maniera molto più lenta no? perché non abbiamo esatto esatto sì anche questo secondo me alle volte è un po' difficile da capire ma per chi viene da fuori Twitch cioè i ragazzini che sono nati e cresciuti su Twitch capiscono perfettamente il meccanismo e poi quando si spostano si spostano su altre piattaforme capiscono comunque cioè il pensiero lo mantengono viceversa chi arriva da fuori è abituato contenuti gratuiti abituato magari anche ad un'utenza passiva io ti do l'informazione tu la segui poi te la commenti da sola non aggiungi nemmeno il commentino sotto se sei su YouTube o se sei su qualche altra piattaforma insomma è un po' più rigido il rapporto invece i ragazzini qui su Twitch vanno alla grande nel senso che capiscono che cosa vuol dire supportare anche semplicemente ti mandano l'euro che tolte le tasse sono tipo 50 centesimi ti arrivano non è tanto il 50 centesimi è dimostrare che tu stai apprezzando il contenuto che stai andando sulla strada giusta e quindi anche tu da content creator sai che ok questo contenuto è piaciuto lo rifaccio se non è piaciuto vado su altri cerco di tararmi e questo è un modo per far capire appunto a chi seguite cosa vi piace e cosa non vi piace quindi è inutile stare lì facciamo 15.000 live parlando di noccioline no fatevi sentire in qualche altra maniera che sicuramente ha un effetto più grande insomma stavo guardando c'è Emma Red che ha spiegato a Francesca Anacreto e allo stesso modo a me la differenza tra spada corona e stellina io le ho scoperte adesso capite ora quindi è una chat c'è un'utenza molto ferrata mi piace però ecco se mi vedete guardare da un lato è perché ho l'iPad qua ed è da lì che vi leggo per quello loro sono abituati che io di solito difficilmente guardo in camera perché qui ho la webcam ma lì ho il monitor di UBS quindi tipo sto tutto il tempo così ogni tanto butta l'occhio quindi Poretti lo sanno adesso sto facendo degli acquisti sto settando tutto quanto quindi in teoria è un pochino meglio ti faccio vedere perché così ti faccio vedere la potenza della mia regia dentro il tuo vuoi proprio vuoi proprio umiliarmi vuoi proprio umiliarmi vediamo devo capire se riesco a farlo andare però perché ah perché l'ho sconnesso beh comunque c'è sempre più Scorpio che diceva se conosciamo Brave tu conosci Brave? non il cartone no esatto porta il cartone e Braveheart perché magari lo conosco ma non so che si chiama che si chiama Brave è un un browser completamente anonimo che cioè che gestisce bene tutto l'aspetto pubblicità e di controllo delle delle tue informazioni che vanno verso l'esterno quindi le gestisci meglio e poi ha questa questa forza che attraverso una criptovaluta che si chiama BAT Basic Attention Token le persone che entrano nei tuoi canali possono contribuire con questa con questa moneta virtuale io l'ho fatto non ho mai andato a guardare se ho guadagnato qualcosa oppure no però è interessante vedi 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 qui lo faccio vedere anche solo così te lo faccio vedere così è più facile no non cambia niente questo io questo è come ho messo la telecamera quindi è proprio appoggiata al portatile per fare finta che sto guardando ma in verità sto guardando giusto sotto e questo è Icam quindi io questo è il mio sistema per adoperarmi su qui sei troppo tecnologico sei troppo tecnologico è divertente posso posso fare andare posso fare andare musiche ho tutto hai i pozzettini tipo dello sciaccone dell'applauso queste cose qui sì sì guarda 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 ho proprio tutto sei pazzesco tutta roba da tutta roba a parte il fatto che le tue storie su Instagram sono metà Martino e metà pacchi che ti arrivano quindi tu probabilmente fai metà del reddito di Amazon da solo sì sì è una cosa abbastanza ridicola eh sì ho un problema no no dai diciamo che ci ho preso dentro in questo periodo qua perché siccome mi potevo reinventare appunto e anche organizzare ho detto prendo tutto quello che mi serve quindi da semplici borse portacavi a finalmente selezionare i cavi giusti buttare via quelli rotti tipo oggi fare un attimo di pulizia e vedere di cosa ho bisogno e quindi sì ho dovuto investire non ho più niente in tasca però ora non ho scuse neanche quindi devo semplicemente lavorare tanto infatti oggi ho fatto riprese tutto il santo giorno per un video che deve uscire venerdì se riesco a farlo uscire venerdì perché domani dovrò lavorare con un matto infatti ero poco anche su Instagram ma quindi in questo momento per quanto riguarda appunto il lavoro ci sono prospettive all'orizzonte cioè nel senso anche prima dicevamo ok forse non è una priorità però attualmente eventi non ce ne sono più in programma per un bel pezzo no? no tutto è stato spostato a fine 2021 uno praticamente quelli grossi sì cioè se consideri l'expo se consideri tutto se consideri il fatto che tanti dicono che faranno settembre-ottobre gli eventi che dovevano essere a maggio-oprile ma ci sono due problematiche che non si considerano uno che se pensi di fare un evento a settembre-ottobre ti devi già muovere ora e muoversi ora per farlo uno è difficile e due non sei neanche tanto convinto che poi usciremo da questa situazione per cui rischi di andare via milionata e chiudere ma poi l'altro problema grosso che su cui non si pensa tanto dal punto di vista degli eventi per esempio e qua parlo proprio nella spiccia dell'organizzazione è che già solo il noleggio delle attrezzature il noleggio degli allestimenti dei videoproiettori nel caso nostro e così via cioè tutti hanno intenzione di fare le fiere a settembre-ottobre succederà che i mezzi a disposizione sono quelli che sono e quindi si andrà quasi all'asta io non vendo proiettori quindi non parlo piegando i discorsi ma so già che in sostanza ce ne saranno pochi cioè quelli sono a disposizione tutti vogliono fare lo stesso momento succederà che hai fatica a realizzare proprio gli eventi e soprattutto che c'è troppo competition diventa una sorta di fuorisalone esploso cioè dove quello che tu fai viene diluito in un mondo di cose che esplodono allo stesso tempo perché finalmente si possono fare le cose per cui tante grandi aziende che ragionano in largo anticipo su questo già dicendo no no ok 2020 salta si va a 2021 perché hanno la possibilità di sostenersi comunque e quindi le piccole aziende che sono in questo tipo i settori aiuto ed è molto difficile cioè anche noi facciamo una fatica boia adesso perché comunque anche tutto cioè nonostante la richiesta sia comunque alta perché da un punto di vista le aziende non essendo operative vanno tantissimo di teorie e di preproduzioni ti chiamano in tantissimi per fare cose più avanti però tu sai già in largo anticipo che tu organizzerai inventerai progetti bellissime idee creative ma vedranno la luce tra fine anno e inizio anno prossimo e quindi sei cioè riesci a rimanere in piedi oppure no questa è una domanda che ci facciamo anche noi che si fanno tutti chi non sa fa alba di quelle cose sì diciamo che come hai fatto tu forse questo è il momento migliore per riorganizzarsi un attimo mettere in ordine le cose perché una delle cose che viene forse più sottovalutata soprattutto quando hai da allestire un qualcosa quindi hai della strumentazione da montare della cavetteria varia è proprio le condizioni del tuo armamentario che viene sempre lasciata per ultimo perché sei sempre con l'acqua alla gola devi correre di qua correre di là fare 2500 cose si vinti contattare questo rispondere alle mail preparare il materiale e poi le cose che lasci sempre per ultimo è controllare se i cavi funzionano e mettere ordine nel magazzino tutte queste cose qui che poi in realtà sono quelle che ti fanno cannare quando vai effettivamente a fare gli eventi io poi dall'altro punto di vista faccio l'errore opposto su certe altre cose cioè tipo il motivo per cui io sono strapreso per l'alta qualità e tutto quello che su cui mi punto sempre in verità non è perché ho soldi a parata in disparte per niente cioè io vado alla canna del gas ogni volta perché così mi do e perché mi conosco io sono fatto così significa che ho tutto per fare non ho scuse cioè ho tutta la testatura quindi non ho scuse quindi devo fare e soprattutto sono costretto a fare perché ho finito i soldi quindi mi aiuta tanto mi aiuta a lanciarmi anche Twitch è stata una cosa che veramente io due settimane fa ho fatto la prima live da Stefano Tiozzo da vuol dire nel suo canale Twitch poi la gente è impazzita perché era molto bello mi pare almeno che fosse così e quindi abbiamo deciso di fare una seconda puntata la seconda puntata Stefano fa facciamo da te e io ho detto vabbè e poi ho detto ma scusa ma ne approfitto l'ho fatta anche su YouTube ma l'ho lanciata in Twitch e da lì da due settimane a questa parte mi sono preparato tutto e nel mio calendario personale è scritto tre live alla settimana che quando ho parlato con i colleghi con cui lavoro c'è gente che mi segue su quello che faccio mi ha detto vabbè ma sei sempre alle solite non avevi nessun bisogno di dire che ne fai tre alle settimane falle quando ha senso farle esatto che così se una settimana non puoi ne fai due nessuno si rende conto esatto no io devo sempre mettermi questi obiettivi queste sorte di forzature perché in verità non sono forzature mi piacciono a me piace tantissimo avere questa sensazione che di fare queste serate qua con tutti quanti e discutimi mi diverto tantissimo fare le live c'è poco da fare no ma infatti infatti confermano dalla dalla chat confermano che come è iniziata la cosa dicono mi piace la tua logica Mick sì ma sai ognuno c'è il suo modo di spronarsi c'è chi c'è chi appunto come te dice io ho tutto tutto quello che dovevo fare l'ho fatto adesso devo solo muovere il culo e realizzare quello che devo realizzare c'è chi invece che ne so vuole avere tutto in ordine vuole sempre essere un passetto avanti perché dice se mi trovo un attimo indietro mi sento preso per la gola e quindi non riesco più a ragionare con lucidità anche noi siamo molto molto diversi tra di noi quello che funziona per uno magari può non funzionare per gli altri però quando hai la sicurezza dimmi dimmi si tratta anche di di elasticizzarsi molto nel senso che quando poi hai strumentazione o hai mezzi cioè io non è che abbia comprato tutte queste cose per fare Twitch non sono mica così pazzo metà di queste cose qua se non tre quarti tipo appunto la pulsantiera qua la roadcaster questo microfono con la sua asta e tutto arrivava tutto dalla gabbie dei matti che era quel podcast che l'hanno fatto partire a febbraio e che ha visto quattro live e anche se ne abbiamo registrate altre che non abbiamo messo online ma non ha senso mostrarle ora e quindi ho detto ma scusa ma vabbè ma quindi ci fermiamo non ha senso sono andato in studio ho preso tutta la roba me la sono portata qua ho detto la gabbie dei matti diventa la gabbie dei matti portatile chi se ne frega a riguardo io ho due domande uno perché la gabbia e due cosa è successo e cosa prevedi per il futuro per la gabbia allora la gabbia è perché allora l'idea del format che ora diventa anche un po' cioè rimane lo stesso anche sul mio canale Twitch perché è proprio la mia indole diciamo un po' è quella di cercare persone da intervistare che siano innanzitutto interessanti come persone e non perché siano arrivate da qualche parte qua e là tanto che originalmente la gabbie dei matti doveva avere dei personaggi conosciuti ma perché avevano fatto qualcosa e quindi parlare del tema e avere la persona giusta del tema ma poi anche ruoli gente sconosciuta dall'edicolante il panettiere gente che che fa questi lavori per cui la maggior parte della gente non ha una minima idea cioè che tipo di quotidianità abbiano per esempio quando si alzano che cosa fanno e che è una cosa che mi ha sempre stupito quando io ho fatto il mio terzo episodio che è nel canale YouTube che ho trovato modo per formare il tempo io mi alzo le 5 e mezza ma sai quanta gente mi ha scritto ma io mi alzo le 4 e mezza ma io faccio il pescatore e io ero tipo wow hanno ragione quindi rimango curioso e dico voglio conoscere questa gente voglio capire come fanno poi in quel periodo è partito Monti intervistando ruoli e lì ho detto vabbè ma fregata la cosa però in verità chi se ne frega avremmo continuato comunque la gabbia perché è di fatto una gabbia cioè tu entri e c'è questa situazione con questa rete e il concetto è proprio quello che i matti non hanno tanto tempo per il pregiudizio mettiamola così cioè il matto ovviamente scherzandoci sopra poi è ovvio che altrimenti ha mille sfaccettature però la concezione comune del matto è la persona che è così tanto nel qui ed ora che proprio non ragiona su quali sono le conseguenze di quello che fa e per cui a me come tematica piace significa che sono sicuramente persone che non costruiscono strategie o ideali o robe sul fatto di essere live su un podcast ma si lanciano e basta e quello che devono dire dicono e rimangono curiosi e a me quel tipo di approccio piace tantissimo perché poi crea dinamiche di improvvisazione è pazzesca certo beh guarda io di mio sono molto sono molto per l'improvvisazione poco per per la scrittura dopo dipende perché in alcune situazioni preferisco prepararmi tutto con calma però soprattutto allora intanto iniziare Twitch scriptando tutto no è un suicidio cioè non è fattibile non avrebbe senso farlo secondo me ma anche perché quello che a me piace un po' anche per una questione di formazione professionale diciamo è proprio il fatto di interagire con la persona e vedere che argomenti saltano fuori e cambiare strada a seconda di quello che mi può dare la persona che ho davanti esatto perché è inutile che io ti faccia una domanda a cui magari mi rispondi alla buona perché non ti interessa non hai le competenze non vuoi dirlo insomma piuttosto seguiamo quello che mi vuoi dire tu così vediamo approfondiamo ci sono mille aspetti interessanti in tutto quello che diciamo per cui ma come siete finiti a fare una live insieme a voi noi ci siamo conosciuti l'estate scorsa era quando sono venuto a Padova per il Cicafest e da lì ho pensato che tu fossi padovano esatto esatto però io in realtà ho vissuto a Padova per diversi anni per l'università poi mi sono trasferito qui a prima a Bologna e poi a Ferrara per cui sono un po' girovago anch'io però in realtà sono Veneto sono di di Venezia terraferma non isola ma terraferma ok io sono originario di Vicenza in realtà ecco sì si sente un pochino l'accento sì tu la senti io lo sento perché sono conosco l'accento probabilmente sì comunque quella sera mi ricordo che c'eravate tantissimi tutti che si conoscevano tra loro c'era Barbascura c'era entropi c'era Giacomo c'era un casino di gente e io ero non ero in soggezione perché faccio fatica ad essere in soggezione ma ero tipo ero in situazione come si fa come si fa come si interagisce le persone cioè tipo quando ti presenti ti presenti e dici ciao tanto so già chi sei e infatti mi ricordo che eravate uno a fianco all'altro e insomma io ho iniziato a salutare i primi poi c'era Ruggero Ruggero Rollini e con il suo cappellino e tutto e io quando l'ho visto cioè subito sai lui ha proprio questa immagine e sì colleghi in due secondi per cui lui giustamente dice ciao piacere io sono Ruggero e io gli ho risposto in maniera molto molto ingenua ma sì lo so è vero me lo ricordo e lui mi fa vabbè cioè ok e io ci sono rimasto no non volevo è che è che è vero che lo so sì infatti beh guarda quando quando sono andato al primo scusate al mando la food and science festival la prima volta che appunto vedevo di persona le persone che in realtà conoscevo solo tramite instagram o youtube eccetera la mia paranoia era ma mi presento con il mio nome o con o con il mio nick perché cioè se io mi presento col mio nome loro mi dicono e quindi chi sei se mi presento col nick è più facile che parta il collegamento perché insomma magari uno non riesce ad associare a tutti i volti perché insomma ne segui tanti magari quelli più quelli che che segui di più li riconosci al volo agli altri magari fai un po' di fatica quindi ero imparanoiato per questa cosa qui e credo che alla fine ho ho deciso di fregarmi abbastanza del tuo book chi se ne è se mi conoscono mi conoscono se non mi conoscono sono tizio che si è presentato sono stato educato lo stesso quindi mi lo fa bene nel caso mio che ho mico dali da una parte just mic tu dirai vabbè è più semplice invece tanta gente soprattutto su instagram c'è qualcuno che ogni tanto mi fa dei vocali dal nulla ma sono bellissimi dove parte vocale senti ciao just ma chi è just cos'è just e lì vabbè ok poi tantissimi che mi chiamano mike vabbè mic viene letto mike in italia non c'è verso non so dove la vedono però è così e poi il top l'ho ottenuto l'altro ieri quando ho ordinato una pizza dal ristorante qua vicino perché il tipo è tutto organizzato per whatsapp e mi fa un vocale chiamandomi kim e gli ho detto beh questa è proprio ce l'ha letto al contrario praticamente straordinario con legamenti di neuroni a caso praticamente però è vera questa roba sai cosa da un punto di vista psicologico mi è sempre incuriosito incontrare persone cioè essere dall'altra parte quindi persone che sanno chi sei e ti fanno ah ciao è un piacere conoscerti e tu giustamente è un piacere mio ma perché è vero è un piacere mio conoscere la community vedere che è vero però si inizi a conversare e non succede mai che ti dicono il loro nome e io ho imparato molto in fretta ho imparato molto in fretta a dire ma come ti chiami che a volte non è te lo devi anche dire in maniera carina perché a volte veramente viene presa anche come come ti chiami piccolo invece non è così è come ti chiami non me l'hai detto io voglio sapere come ti chiami devo sapere come riferirmi a te no? sì se no tu esatto e lì il discorso è molto interessante perché in verità loro ti conoscono perché ti hanno visto più volte e da un punto di vista si instaura un rapporto anche se è diverso da un rapporto reale però si instaura un rapporto e tu non è che vai dai tuoi amici ogni volta e dici ehi ciao sono Mick per cui eviti questa roba ed è una dinamica che succede spessissimo e mi incuriosisce a me è successo che mi un ragazzo mi si è avvicinato e mi fa ah ciao sono mi ha detto anche come si chiamava però ovviamente non è che ti puoi ricordare tutti i nomi e mi fa sì perché ti ricordi abbiamo discusso ti ho chiesto questa cosa abbiamo discusso di quell'altra roba e io sbiancato ho detto no non posso fare la figura di merda che non mi ricordo così poi ci ho ragionato dopo parlando ovviamente mi è venuto in mente però ovviamente se ricevi tutta una serie di domande e rispondi molto spesso sono anche domande uguali mi telefono più persone ma è sempre la stessa domanda sempre per vedere il discorso che magari andare a vedere le storie in evidenza è difficile si fanno un po' tutti la stessa domanda quindi purtroppo non fai fatica a collegare alle persone e quindi quando le vedi quando le vedi dal vivo sei tu in difficoltà perché loro cioè per loro sei praticamente l'amico vicino di casa capito perché ti vedono tutti i giorni però Instagram hai ragione Instagram è ancora un po' difficile su Twitch e soprattutto su Telegram ho iniziato a riconoscere diciamo i personaggi cioè senza ovviamente riuscire a collegare un volto a volte sì attraverso Instagram però devo dire che cioè anche qua in chat cioè io Santiago mio Scorpio cioè io vi vedo vi dico a Francesca cioè li ho visti quindi ora io non vedo l'ora di fare un raduno purtroppo bisognerà aspettare però sarà molto disagiante da un punto di vista che finalmente leghi un volto perché credo anche che l'immaginazione vada comunque avanti da sola finché non trova una risposta però è molto bello il fatto che si crei un rapporto che è strano è diverso dal solito è una cosa cui non siamo abituati per due o tre generazioni sarà una cosa ovvia però i raduni a me sono belli a questo punto di vista perché poi chiudi i cerchi a voglia qualcuno suggerisce di andare in giro con la maglietta con scritto chi sei maglietta con nickname autopubblicità e figuracce evitate in realtà secondo me fare una figura barbina peggio ancora chi modelli alter ego sarà perché su Instagram non c'è la maledetta ricerca nei messaggi in quante Instagram ha delle castronerie non risolte ma veramente non c'è una spiegazione sul perché anche perché sono delle sciocchezze è che secondo me c'è sempre quel problema che non hanno un gruppo di tester sufficientemente sviluppato secondo me o forse non lo so forse non lo utilizzano proprio cioè non hanno chi poi come? utilizzano noi come tester che ognuno ha qualcosa di diverso ma no un anno fa ero l'unico che non aveva la musica per due mesi così senza nessun motivo al mondo il momento del passaggio della comparsa della musica è stato un momento di panico un po' per tutti una persona su due non si sa per qual motivo non poteva usarla così selezionato random esatto esatto Mink se ti incontro e ti urlo hell yeah ti ricorderesti forse mi colleghi con Instagram sì che mi collego a volte ci metterò un po' cioè ci metterò un po' perché il punto è che anche se e se collego cioè anche se hai una quasi totale sicurezza di chi è davanti poi si insinua sempre quella vocina che dice ma e se non è come pensi ed è un'altra persona e io ho già impassato ragazzi non fate tante figure di merda in questo senso qua perché io mi lancio e quindi a volte veramente vado convinto c'era una volta parlo di quando ero piccolo ma che avevo una persona davanti tra l'altro poverina era seduta su una panchina e io ero davanti e io sapevo che avevamo eravamo stati in una stessa compagnia assieme in un periodo più vecchio due anni prima ma lei non se lo ricordava però io ero convinto e quella volta tra l'altro avevo ragione però vabbè io ho continuato ma ti ricordi me e lei no ma dai ma sì dai io non smettevo ma non smettevo anche per una questione di non posso uscire così con lei che dice no e basta cioè io se lei dice anzi allora sei tu che hai fatto figure di merda se invece tu continui a dire no io sembro un pazzo sì esatto esatto però ancora di più se te ne vai via sì 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 esatto dici vabbè ok ciao me ne sono capitate però vabbè ma lei è divertente basta essere leggeri su queste cose adesso c'è la possibilità di inserire immagini sulle storie pare ovviamente non ce l'ho vabbè giustamente l'ho visto anch'io non mi ricordo da chi ma l'ho visto anch'io ah sai forse da può essere da come si dice astrofilo o astrofilo 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 credo sì esatto perché filo diciamo che è il diminutivo di Filippo quindi l'accento l'accento ci sta lui non so se era lui o qualcuno altro qualcuno ho visto che aveva questa questa credo che me l'abbiano detto oggi mi hanno proprio detto ah ma sai che ho scoperto che si può fare questa cosa qui io come al solito casco dalle nuvole perché sono assolutamente arretrato su queste cose io non posso neanche vederlo perché il mio cellulare è in fondo sopra una torre dei gatti a farmi da router da modem in questo momento così sono la torre dei gatti è fantastico beh guarda aspetta dai è giusto che lo faccio questo visto che ne abbiamo anche parlato più volte perché tra l'altro non capita spesso di vederlo qua aspetta ecco qua no 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 non mostriamo le mie cose eccolo qua caro amore mio bellissimi quei cuscini volevo comprarli anch'io infatti per le sedie del giardino me li metterò questa io non dovrei dirla ma è la mia ex che aveva preso questa cosa qua per una sedia e faceva veramente schifo e io l'ho convertita a qualcosa per i gatti che loro l'adoro sì ma è una chiciata allucinante è proprio per quello lo metto sulle sedie in giardino che così fa colore dai no lei lo aveva attaccato poi là sopra vicino a tutte quelle robe lì l'aveva attaccato tipo come quadro ho detto vabbè cioè ah ok sì beh no sì infatti questa è un po' più strana come cosa ma drammatici si piglia no in teoria esatto esatto Martino tutti stanno svenendo per Martino ovviamente eh guarda è proprio è un mito è un mito ma è è di una razza particolare o è proprio lui che è che è così è lui che è così era una cucciolata di note ok e io sono andato a vederli dopo un mese di vita ma non potevo prenderli perché doveva fare lo svezzamento e tutto però erano tutti in questa scatola la persona era bravissima quella che li seguiva e due di questi erano incollati al bordo della scatola in rivolta tentando di uscire e gli hanno magari cioè io quando ho visto sto qua con i calzini bianchi che io non ho mai mostrato foto di Martino da piccolo in Instagram o sui social perché a quel punto spiazzerebbe cioè mi rovinerebbe la vita tutti vorrebbero ma basta cioè era una cosa impossibile occhi azzurri e questi calzini minuscoli e sta sciarpa bianca e gli occhi verdi li ha tenuti cioè c'era ancora azzurro verde però è stramissimo lui e lei invece da piccola era una tigre praticamente era tutta tigrata adesso è diventata cicciona negli ultimi due mesi poverino ma stiamo lavorando ci stiamo lavorando deve anche lei tornare a fare un po' di ginnastica esatto esatto che bello trovare altri divulgatori su Twitch ciao Tetla ciao benvenuta beh cominciamo ad essere un po' chi cioè comincia ad esserci un bel una buona scelta insomma di canali di divulgazione qui su Instagram adesso appunto sì scusate ormai comincio a far casino tutti questi nomi no cioè vabbè adesso è arrivato barbascura ha fatto il botto ovviamente io ho sentito le cose in sordina lui non le può fare quindi sì oltretutto è impegnatissimo che ha troppo da fare però una live al giorno alle 4 riesce a spararselo esatto sono quelle cose strane perché in realtà anch'io quando abbiamo iniziato con Twitch appunto facevamo le riunioni tra di noi dicevamo ma ragazzi io con tutti i vari impegni con lavoro questo e quell'altro onestamente difficilmente riuscirò a fare una live a settimana neanche chissà quanto e quindi le dico facciamo una settimana sì una settimana no così almeno so impegni nel mentre poi in realtà arriva la serata particolare che allora fai qualcosa insieme agli altri quindi organizzi una serata speciale vuoi che quell'altra volta stai o l'ospite in più che ti dice guarda sono libero sto giorno va bene vai butta dentro nella programmazione vuoi che insomma alla fine nell'ultimo periodo due o tre volte a settimana sono qui e dici vabbè ok com'è che tiri fuori questo tempo sì poi ovviamente ne faccio le spese su tutto il resto però vabbè insomma vabbè ma st'ora guarda io a quest'ora difficilmente continuavo a lavorare era più facile che cadessi in qualche serie televisiva che comunque è una cosa che apprezzo però sai con le live intanto ti costringe ad essere veramente presente le live non puoi cazzeggiare fare altro devi ascoltare devi dire e quindi sono belle ti distruggono anche nel senso che ti stancano ma io adesso ne ho praticamente una giorno domani la prima sera in cui teoricamente se non decido perché in teoria doveva essere il giorno in cui ritornavo a live secondo le mie tre volte la settimana magari lo farò anche però sì domani sarebbe il primo giorno in cui sono un po' più tranquillo a me a me piacciono cioè comunque una volta uscivi con gli amici una sera ti guardi Netflix e la alla fine cambia molto e quando esci da questa live dici però ho pensato a cose escusso cose ho richiamuto cose input output cioè sono cresciuto per cui domani mattina mi svegliamo dei pensieri certo 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 ma allora visto che l'hai introdotto un po' ne è accennato prima e mi è tornato in mente adesso allora io giovedì farò uscire un podcast sul discorso di cominciare ad alzarsi alle 5 di mattina per essere più produttivi no? e anche adesso dicevi sì perché comunque alla sera io a quest'ora smetto io in realtà a quest'ora è il momento in cui lavoro di più quindi io appunto in questo podcast ho cercato di tirare fuori quelli che sono appunto i dati scientifici che riguardano appunto questo questo fenomeno appunto che qualcuno riesce a sfruttare a suo vantaggio qualcuno no e quindi ho cercato di capire cosa ci fosse di vero se fosse semplicemente un trend di quelli però effettivamente c'è parecchie ci sono parecchie persone poi magari anche tu mi confermi cioè tu normalmente ti svegli tipo diciamo vabbè non in questo periodo perché è tutto un po' falsato ma normalmente ti svegli tipo alle 5 alle 5 e mezza o come adesso sto riprendendo no sto riprendendo le 6 e mezza e ho trovato cioè più che altro ho un metodo per svegliarmi le 6 e mezza con voglia di alzarmi e tutto che è la cosa bella tranne quando soprattutto negli ultimi giorni faccio tipo tre ore di live allora è un po' infattibile no io apprezzo ancora tantissimo quel sistema di alzarsi presto e poi ci sono compromissi in entrambe le parti il fatto di lavorare meglio la sera uno dei motivi è puramente il fatto che non sei costretto a essere multitasking no cioè non hai email che arrivano non hai chiamate cioè puoi dirti su qualcosa e concentrarti su quello io più che pensare agli orari ho fatto quell'episodio sulla sulla stanchezza cognitiva no e la cosa interessante c'è la cosa che mi ha interessato di quell'argomento lì è non tanto in che orari fai le cose ma quanto dividi durante la giornata quello che è operativo da quello che è mentale o meglio quello che riguarda strategie futuro passato e quello che riguarda dei task operativi e il mio esercizio che mi sta fruttando molto bene in questo periodo come piacere anche della giornata perché penso che credo che ognuno di noi in questo periodo qua abbia imparato questo semmai cioè tu puoi lavorare non lavorare lavorare tanto o poco ma alla fine abbiamo tutti sofferto il mostro di noi stessi cioè la sera che dici beh avrei potuto far di più avrei dovuto far di più è l'autodisciplina non c'è più nessuno che ti dice devi fare quattro ore altre quattro roba del genere per cui io ho detto ma non è tanto quanto produco è il fatto che poi arrivo la sera e sono magari infastidito da come ho gestito la giornata quindi ho iniziato a dividere quello che è più se vogliamo creativo e di pensiero verso la mattina per assurdo quando in verità si dice la creatività viene di notte esatto però è proprio questo il punto che la creatività viene di notte perché nessuno ti disturba principalmente ma in verità la stanchezza cognitiva arriva dal pomeriggio in poi cioè il fatto di ragionare sulle cose è più difficile farlo pomeriggio della mattina per cui se tu trovi modo di non farti disturbare la mattina e di poter lavorare a livello creativo è il top infatti io ho iniziato a dire anche in studio insomma non è facile poi c'è chi ha più o meno possibilità qua siamo le solite per cui bisogna interpretare anche un po' quello che dico ma ho chiesto che tutte le riunioni vengono fatte pomeriggio possibilmente cioè quando ti chiedono ma quando preferisci preferisco il pomeriggio quindi il pomeriggio vado di cose operative se devo editare un video lo faccio pomeriggio non la mattina e se devo fare riprese lo faccio pomeriggio non la mattina se devo pensare a cosa fare la prossima volta su Twitch lo faccio la mattina ok quindi praticamente l'esatto opposto a quello che direbbe appunto la scienza ma ma guarda che arrivo anch'io da lì cioè nel senso che io ho sempre spinto anche perché tipo in Australia io avevo avevo scuola il pomeriggio alle 6 apposta e vivevo la notte e ho sempre pensato che questa questa cosa qua ti dà ti dà un mare di vantaggi per cui l'ho detto che ci sono compromissi in entrambe le parti uno perché poi lo sappiamo benissimo che c'entra tantissimo con le tue convinzioni anche e poi con cosa ti attiva cosa cosa che cos'è che ti triggera quale cosa ti stimola in un certo senso o l'altro perché alla fine si tratta di creare obietudini anche lì per cui io trovo trovo l'argomento della stanchezza cognitiva più quello più l'argomento più pesante in in questo concetto da discutere di di come affrontare la giornata cioè almeno per quanto riguarda me io il pomeriggio mi trovo probabilmente anche per questioni di dieta chi lo sa però il pomeriggio mi ritrovo troppo stanco per poter veramente essere fresco e con voglia di inventarmi le cose a meno che io non abbia proprio una serenità data da la giornata tranquilla tipo i weekend cose del genere nei weekend per esempio io produco molto livello creativo e quindi tento sempre di direzionarmi così però sono curioso di cosa hai trovato fuori te se puoi perché se esce il video dopo non so se puoi spoilerare ma sì ma sì ma sì allora un video un video l'ho già fatto uscire adesso appunto uscirà il podcast giovedì sera ok giusto ti dico in realtà dai dati scientifici è proprio è proprio quello che mi stai dicendo tu cioè il segui il ciclo circadiano ti porta a stancarti maggiormente accumuli stanchezza durante il giorno ma anche cala la tensione quindi cala la tensione parlevamo appunto prima ormoni vari insomma cala la tua attenzione quindi il pomeriggio sei più stanco e teoricamente la cosa più logica da fare sarebbe quella di fare le cose operative in cui devi mettere più attenzione quelle anche volendo più meccaniche la mattina e poi il pomeriggio invece tenerti quelle creative perché perché sei più stanco sì ma sei anche più rilassato perché appunto gli ormoni calano in teoria ti portano verso il riposo e quindi sei più rilassato però attenzione non vale per tutti questa cosa cioè questa in linee generali però in realtà dipende dal tuo ciclo circadiano quindi di conseguenza se tu hai un ciclo circadiano che è più spostato verso la sera oppure è più spostato verso la mattina ovviamente si sfasa tutto quanto non è che le cose rimangano fisse ma io ti direi che e poi è abitudine è anche abitudine perché se appunto tu riesci a trovare la motivazione la mattina la mattina presto per fare le cose creative è chiaro cioè è fuori di dubbio che hai un cervello più attivo più performante è fuori di dubbio infatti io penso per quello che dicevo è estremamente soggettivo io è una cosa che combatto sempre anche nel mondo di youtube il direi dieci modi le cinque sistemi le quattro tecniche cioè ok va benissimo ed è un bel modo anche per esprimere i concetti basta che poi le persone si ricordino di adattarle a se stesse e per quello la consapevolezza è sempre la base è sempre la base su cui creare colonne portanti perché se sai come sei fatto sai come adattare le cose per cui io per esempio quello che più mi blocca nella mia creatività è quando ho le tensioni legate a cosa avrei dovuto fare quanto indietro sono con le cose cioè quella sorta di spirale negativa dell'autodisciplina che ovviamente mi viene fuori molto di più cioè si presenta molto il pomeriggio perché nel pomeriggio ho ancora poco tempo per essere a ritmo giusto mentre la mattina è ancora un oh mio dio ancora tutta la giornata davanti e in questo senso qua io sono abbastanza felice di come sto creandomi l'abitudine del chiamiamola l'abitudine dell'affrontare la giornata cioè quelle prime due ore io nelle prime due ore dalle 6 alle 8 o dalle 7 alle 9 adesso non occorre neanche esagerare esagerare mi trovo a veramente a pensare e me lo lo sento che me lo dico a dire cavolo cioè ho veramente tante ore davanti oggi cos'è che posso fare e siccome mi sono svegliato presto che bella questa cosa ma guarda è da tre settimane che l'ho ripresa bene io ho fatto come sempre faccio lo racconto spesso che faccio sempre un mese all'anno io lo faccio da solo così quindi questa quarantena per me è una cosa che faccio da 4 anni e le prime tre settimane la soffro come un cane ma non soffro mi piace da morire mi piace morire perché scopro cose di me soffro il fatto che perché non ho pazienza che non le scopro in tempo zero ci vuoi sempre tre settimane per scoprirle per cui ho fatto le prime tre settimane adorando la quarantena ma frustrato del fatto che non riuscivo a capirmi e dalla terza settimana poi ho scollinato come spesso mi accade in questo tipo di circostanze e da lì ho iniziato a sentire che quando mi alzo la mattina cioè per quello che ti dicevo che è una cosa delicata perché secondo me è molto importante mi alzo le sei con l'abitudine di svegliarmi dicendo oddio cioè non vedo l'ora alzarmi cioè ho un mare di cose che posso fare prima mi alzo e più mi posso divertire a farlo con i tempi facendo la fortuna avere il giardino quindi metto fuori faccio pause e quindi ho cadenzato anche la mia giornata con tanti momenti in cui mi fermo dal computer vado fuori caffettino mi faccio un giro delle piante torno dentro tutte cose che prima non facevo assolutamente e questo però mi provoca una completa serenità nell'affrontare la giornata la mattina e quindi creatività non finire sono i propri che dico ah potrei far questo e quello non ho il peso del come fai a farlo sei pieno di roba eccetera eccetera pomeriggio quando il pensiero andrebbe proprio per parti brutte lì mi costringo invece a fare cioè dove mi dico ascolta puoi controllare quella roba lì? sì facendo boh allora zitto e fai mi metto non so edito un libro un video bene vado avanti edito e riesco a fare anche 4 ore di seguito così sì c'è qualcuno che dice mi stai raccontando la mia vita oppure viceversa qualcuno che all'inizio mi ricordo mi pare fosse stata Francesca che diceva ma esistono anche le 5 di mattina quindi insomma siamo c'è chi lavora di notte perché appunto dice sono più attivo di notte c'è chi invece non raggiunta una certa ora si spegne io ad esempio la mattina quello che cerco di fare addirittura mentre faccio colazione che forse non è la cosa più corretta da fare però per stringere compattare un po' i tempi faccio così cerco stimoli cioè se durante la giornata noto perché io lo faccio molto questo ovviamente perché ho ancora molta strada da fare quindi ho sempre molto da imparare cerco di guardare chi è più bravo quindi seguo tutta una serie di canali seguo tutta una serie di persone e spesso mi capita durante la giornata di dire va che figata questa intervista va che figata questo video adesso non ho tempo per farlo ma anche se ho tempo per guardarlo lo tengo lì e lo guardo la mattina perché la mattina sono più non lo so forse sono un po' più ricettivo e quindi mentre guardo ho la testa che frulla esatto mi vengono in mente tutta una serie di cose che io mi annoto e poi con calma le sviluppo è una cosa che faccio di mattina anche per il fatto che poi questo mi dà carica se quella mattina che non ho un video di questo tipo da guardare non ho un podcast da ascoltare non ho qualcosa di questo tipo sono molto meno produttivo rispetto agli altri giorni quella mattina che io inizio che mi devo alzare presto e la prima cosa che faccio è accendere il computer per fare una lezione una video lezione come in questi giorni poi sono molto meno produttivo perché non ho quell'input iniziale che mi dà la spinta emotiva perché è quella che alla fine ti fa essere creativo secondo me assolutamente è l'input certo è con l'input che sposti il tuo pensiero verso qualcosa di nuovo e quindi crei connessioni diverse nuove ma io guarda faccio esattamente la stessa cosa cioè quando faccio colazione sto solo attento cioè ho una prima parte della colazione estremamente detox il digital detox poi poi ho la cioè proprio la divido in due e nella seconda parte per esempio una cosa mi ha fatto girare le balle negli ultimi tre giorni è che andavo proprio sul tasto subscriptions di youtube dove non è la home o trending dove ti arriva di tutto è gli ultimi video quindi quelle delle ultime 4, 12, 24 ore delle persone che segui e ce le hai tutti davanti così vedi le novità anche nell'attualità totale non so se sia capitato solo a me o se capita a tutti noi ma se ora cliccate su subscription da due giorni a questa parte ci sono del gaming i bollini poi ci sono delle persone ma non ci sono gli ultimi video e io adesso non sto più guardando youtube da quel punto di vista lì ho detto non trovo più il modo per non essere disperso in youtube perché prima cosa facevo come facevo anche con i TEDx rischiavo perché la mattina dicevo faccio colazione mi guardo dei video però perdevo più tempo facendo zapping un po' come fai su netflix ok ma cosa mi guardo ma c'è questo c'è questo e poi avevo perso troppo tempo quando mi guardavo qualcosa dicevo vabbè ma forse è meglio mi metto a lavorare mentre quell'abitudine che avevo nel guardare le subscription perché mi facevano vedere i video delle ultime 24 ore per me era c'è qualcosa interessante ce la saprei almeno uno o due video e facevo così e questa era carina come roba comunque ho una mi fa ridere tutto questo perché io venerdì se riesco se no sabato esco con un video che vabbè lo dico poche volte alle 7 di mattina tipo no 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 però esco con la mia routine perché me l'hanno chiesto tantissimo e spiego proprio tutto quello che io faccio e il perché di come lo faccio io perché si ha leggere niente però io ho tante piccole robette che per me sono importanti per qualcun altro potrebbero non esserlo però appunto per esempio la parte della colazione come anche è un anno e mezzo che io anche in studio tutti sanno quando si pranza io non parlo di lavoro non esiste non mi interessa neanche quanto voglia abbiamo devi staccare devi staccare devi staccare sì 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 se no fondi cioè se pensi è il solito discorso se tu hai un problema e continui a ragionarci sopra non lo risolvi devi staccare e tornarsi dopo un po' altrimenti non è via a capo Einstein nella sua benedetta frase sul non si può risolvere un problema con la stessa mentalità con cui si è creato esatto la beauty routine di Micodelli ci starebbe ci starebbe ci sei tu che fai tipo le le trazioni sulla sbarra la doccia fredda queste cose molto ma è ovvio che sai che io prendo per il culo sempre le situazioni quindi figurati se non c'è qualcosa del genere certo ci sta ci sta e comunque è un tema estremamente centrale che mi piace tantissimo e che in questo periodo tutti stiamo affrontando e poi questo è un bel periodo perché nessuno cioè puoi dire meno ma io non posso per lavoro quella tipo sul discorso della stanchezza cognitiva dicevo vabbè ma se hai sonno perché non ti addormenti cioè se sono le tre del pomeriggio hai sonno dormi cioè se puoi farlo ovviamente ma molti più di noi puoi farlo ora per cui perché bisogna sempre avere questa mentalità che no a letto otto ore al giorno cioè non è che rompi i cicli circa di anni guarda qualunque animale comunque la notte si dorme se non sei un animale notturno ma di giorno puoi avere i momenti in cui ti fai la pennichella ti fai la pennichella certo che poi in realtà noi ci dimentichiamo sempre che il discorso delle sette otto ore da dormire a giorno è a giorno non a notte è una cosa un po' diversa per cui se io per un motivo X la notte dormo di meno ci sta che mi faccio la pennichella soprattutto dopo pranto quando hai il calo fisiologico quindi assolutamente bisogna ridare il posto al pisolino pomeridiano è una lotta personale che voglio fare dobbiamo istituire il pisolino pomeridiano ovviamente se ne hai bisogno se senti che ne hai bisogno lo fai guarda è come la dieta la stessa cosa della dieta cioè tu puoi avere un tuo piano su come fare le cose però poi il corpo lo devi seguire io una cosa che ho letto poi qua insomma ne abbiamo di amici che ci possono aiutare diciamo queste fronerie però avevo letto di questo articolo dove mostravano questo esperimento fatto con dei bambini per non mi ricordo quanto tempo all'interno di un ambiente dove c'era cibo di tutti i tipi e avevano dimostrato come dei bambini di un'età molto molto bassa non mi ricordo se tre anni due anni cosa non voglio dire stupidate però nel fare cose a caso in verità si adeguava presto a una suddivisione corretta tra proteine carboidrati grassi eccetera lo facevano proprio istintivamente seguendo il proprio corpo che è una cosa che qualunque animale fa non è che ne abbiamo il libretto delle istruzioni per cui se è vero che da un punto di vista vuoi avere una tua tecnica un tuo sistema poi lo devi seguire il corpo se sei stanco dormi non c'è anche perché poi sei ancora meno produttivo tu dici sto sveglio continuo a lavorare o continuo a fare le cose perché devo essere produttivo poi in realtà sei meno produttivo se ti fai un pisolino poi ti svegli e lo fai in metà del tempo esatto esatto io con l'editing degli episodi questa cosa l'ho proprio assaporata tantissimo mi ricordo quella volta che dovevo andare a Ginevra e avevo la mattina per fare le musiche del video e il pomeriggio poi dovevo chiuderlo in velocità e sono stato quattro ore a tentare di trovare le musiche giuste non le trovavo alla fine ho scaricato una serie di robe a caso offline in aereo in mezz'ora ho risolto tutto quello che non avevo fatto in quattro ore prima solo perché prima ero dentro questa spirale che se devi essere creativo non puoi forzare le cose per cui e lì di nuovo c'entra il discorso del mindset di mettersi in quella mentalità dove puoi fare bene quella cosa se no lascia stare fai dopo in alcune aziende in Giappone mi sembra riconoscono il power nap la produttività è molto maggiore in realtà in Giappone hanno molti problemi dal punto di vista lavorativo dei turni delle cose quindi sì è vero che riconoscono il pisolino diciamo però è anche vero che di solito dormono sui mezzi pubblici mentre tornano a casa quindi c'è qualcosa da aggiustare anche gli eccessi non vanno bene né in un senso né nell'altro la creatività viene quando vuole lei non quando vuoi tu e beh certo è quello è bello sì ma tu puoi ecco su questo io sono però cioè metto sempre il punto la creatività è un po' come la fortuna cioè puoi creare il contesto dove è più facile hai più come si dice probabilità che arrivi cioè se tu se alimenti il fatto di stare bene di essere sereno sereno di essere in una situazione di benessere di non avere troppe cose per la testa la creatività è a disposizione non è che devi aspettare che ti bussi la porta per cui sì noi pensiamo sempre che la creatività arrivi da sola solamente perché non siamo molto capaci di gestirci a livello emozionale ma fatto un bel lavoro a livello emozionale su noi stessi puoi metterti in quella condizione vedi i grandi esperti di mindfulness puoi metterti in quella condizione di serenità per cui poi hai una perché alla fine è un esercizio anche quello e la creatività è una tecnologia in un certo senso per cui e poi bisogna che tu sia pronto a cogliere il momento insomma come dicevi te guarda non mi ricordo continuo a dimenticarmi di chi l'ha detta ma tu dicevi guardare cose di altri la curiosità è la benzina della creatività io me lo sono sempre portato dietro come cosa perché è sempre il discorso di quando sei curioso hai nuovi input con quei nuovi input produci qualcosa di nuovo per cui serve sempre stimolarsi sì è lo stimolo che ti dà ti dà l'idea che poi magari non ha nulla a che vedere con quello che tu hai visto ma è collegata con il tuo cervello è collegata in un'altra maniera e quindi ci arrivi facendo una strada completamente diversa però ti serve quella scintilla che faccia partire tutto il ragionamento altrimenti non esatto e quindi poi in realtà tu appunto dicevi cerco di di tenere i social spenti effettivamente io tengo il telefono in modalità aereo fino finché è possibile finché non mi arriva il momento in cui mi serve perché devo fare proprio una cosa cerco di lasciare le modalità aereo è ovvio che quando stai aspettando la chiamata di lavoro ti tocca accendere non è che puoi fare lo splendido e stare offline tutto il giorno però finché è possibile lo tengo spento proprio perché poi c'è la tentazione di andare a cazzeggiare no? invece se se hai la tua idea ah ok domani mattina mi guardo questo video questa cosa qui così vediamo lui che cosa dice su questo argomento qua che cosa si è inventato almeno vai a colpo sicuro non stai a spulciare tutta infatti il problema che dici tu di YouTube è che non ti mostra più gli ultimi gli ultimi video dei canali che segui è un po' un casino perché poi te li perdi e fai a guardare altre cavolate ma io penso che sia talmente brutta quella pagina ora che la risolveranno molto in fretta loro sono abbastanza reattivi sul feedback della community però guarda io ho una cartella che cliccando col pulsante destro mi apre 17 schede e ogni mattina io dopo aver fatto guardazione clicco lì e ho tutte queste schede ora sono 16 perché quella lì di YouTube non la voglio più vedere però sono tutte le varie dimensioni su cui mi piace passare prima di iniziare a lavorare su Instagram non faccio mai una storia prima delle nove apposta poi se capita sì ma allora sono da content creator non da fruitore di contenuti che li perdo ma faccio una storia e la butto però sì tento comunque mi sono accorto che da quando ho un po' più attenzione a queste cose funzionano tutto in maniera molto più bella questo di tenere il telefono online pure io lo faccio poi mi ricordo di guardare le storie di Mick io però trovo la maggior parte degli spunti dalla rabbia più che dalla serenità rabbia di che tipo? sì anche io voglio saperne di più da sta cosa anche perché è interessante è verità dipende anche da che lavoro fai sì esatto se fai il personal trainer funziona da Dio sì poi insomma basta un attimo contestualizzare se sei un serial killer la rabbia va benissimo spero di no dai condividi le tue schede dice Oc voglio non sapere cosa segui no sono i segreti non si chiede non si chiede no ma sai perché cioè piccolo altro non voglio neanche dare la lezione non è mai una lezione ma le lezione sbagliata nel senso cioè è proprio lì che diventa personale la cosa ognuno di noi deve capire quali sono le cose che più ti stimolano nel momento giusto della giornata secondo me è importante quella cosa ma cosa spunti dai momenti tristi ah Prezel Rock è la musica che noi attualmente non sentiamo ma che va va direttamente su quindi loro la sentono è il sottofondo musicale che Luigi sta mettendo figa 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 lo trovo spunti dai momenti tristi e melanconici perché nei momenti perché nei momenti felici non ho il tempo per pensare vivo il qui ed ora sei sei un filosofo no però ha ragione cioè è verissimo che così c'è il discorso della felicità infatti io non parlavo di felicità parlavo di serenità che è un po' diverso poi anche lì si potrebbe sì filosofare o filosofeggiare se in questo momento sarei più la seconda però il discorso dei momenti tristi melanconici anche lì per esempio se sei un artista la maggior parte di artisti prende spunto proprio da dalle cose che più alimentano la nostra ammigdala e le cose negative sono molto più forti in questo senso quello che ti segna di più insomma sì esatto il fatto è che appunto i lati negativi le esperienze negative le emozioni negative sono quelle che ti segna di più e di conseguenza sono quelle che poi riesci più a trasformare se appunto fai quel tipo di mestiere ecco sì beh guarda nel mondo del retail la musica parliamo qua del grande distribuzione cose del genere la musica negativa cioè la musica triste viene utilizzata di più in filo di fusione perché stimola di più appunto le emozioni le persone rallentano la loro esperienza d'acquisto e quindi risponde alla grande equazione più importante di tutte nel mondo del retail del retail quello fatto un po' così che è più secondi stai dentro più acquisti in sostanza esatto esatto è quello di massa è il retail di massa esatto punti sui numeri non punti sulla qualità ovviamente esatto sì da sicaria mi tocca in quei momenti scelgo le vittime da sacrificare vedi 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 tu tu mi hai tagliato la strada e quindi sarei il prossimo ci sta non è giusto un musolista nera sei sei un sicario a diciamo ad emozione cioè non ti pagano per fare queste cose lo fai così per rendere il mondo un posto migliore non so a che scopo è una forma di libertà anche quella la mattina alzarsi dire chi uccidiamo oggi sì esatto esatto partiamo con il piede giusto di chi si parla Kill Mind o Skill Mind non si parla di chi non si parla sì no esatto ma questa è una serata un po' particolare abbiamo deciso di lasciare andare un po' le libriglie e vedere abbiamo raggiunto le due ore comunque giusto per rimanere insomma in forma perché sennò altrimenti una live con Mic sotto le due ore è una vergogna veramente non si parla della pesca di Aragoste beh giustamente no no comunque ma secondo te questa situazione cioè tutto questo sfruttamento dei social ma anche banalmente di Meet di Zoom di Skype tutti questi modi per comunicare rimarrà qualcosa quando cominceremo effettivamente ad uscire o tornerà tutto come prima ai tempi del Far West secondo me allora ci sarà un rimbalzo verso il non digitale per un attimo cioè io mi aspetto e questo è semplicemente in my humble opinion però se pensiamo a chiunque di noi quando usciamo da qua di certo non pensi ad andare al cinema o almeno io non credo pensi a cose naturali pensi a farti una camminata nella natura pensi a vedere amici pensi a tutte le cose analogiche per cui secondo me ci sarà un po' un rimbalzo in senso opposto poi comunque tornerà a ribilanciarsi le cose e secondo me ci sarà quella sensazione che un po' sarà data anche dal disagio che ci provocheremo l'uno con l'altro di non sapere bene come fare cioè ti trovi un gruppo di amici domani mattina e vi trovate in un posto li abbracci non li abbracci cioè ci sono tutta una serie di dinamiche secondo me psicologiche che renderanno le cose un po' goffe e in alcune circostanze dove si può fare anche online sto immaginandomi per lo più l'ambiente di lavoro sarà più facile che le cose accadranno attraverso videoconference io già sto parlando con architetti che con cui stiamo discutendo ambienti di lavoro che vengono ridimensionati e da quando è successa la cosa del covid si sta rivalutando i posti di lavoro per ottimizzazione anche rispetto alle videoconference perché comunque si tenderà almeno per un po' a ridurre comunque i rischi anche perché insomma lo sappiamo che tutti parliamo di fase 1 fase 2 ma nessuno riesce a immaginarsi una non fase non è che tutto finisce come fa a finire devi aspettare veramente un bel po' per dimenticarti di avere paura di questa cosa quindi oltre al fatto che forse non sapremo neanche di cosa parlare perché io mi trovo delle volte a telefonare chiamo il mio papà e siccome ne io ne lui siamo usciti di casa io al massimo posso parlargli di lavoro però non è neanche che posso fargli una testa tanta parlandogli di quello che faccio io a lavoro e non hai altri argomenti perché dici non sono uscito cosa ti parlo quando sono andato a fare la spesa quante persone c'erano quindi secondo me poi avremo bisogno di un lasso di tempo per cominciare a fare delle cose e poi poterle raccontare i nostri amici sì sì è vero c'è la classica frase di mio padre ma dai raccontami qualcosa no mi racconti mai niente vabbè ma da ieri cosa vuoi che ti racconto non è che sia successo non cambia niente proprio giusto dai che dopo la panderia forse inquineremo meno e credici io ho paura io guardo l'unica paura che ho è che la situazione drastica che si creerà per molte persone di non avere lavoro non trovare lavoro dover correre doppio per fare gli stessi soldi secondo me provocherà una sorta di cattiveria detto in senso di sfruttamento di se stessi anche e di tutte le risorse possibili per salvarsi il culo detto in maniera in modo francese e questo può veramente cioè lo avevo anche un po' notato come sensazione poi è di nuovo una cosa personale quando qua andiamo un secondo nella politica ma quando si era passati a parlare di fase 2 con un po' di confusione e Zaya se ne è uscito dicendo no beh allora se qua si apre un po' noi ci muoviamo subito perché noi non vogliamo perdere perdere tempo questa cosa qua mi ha spaventato molto perché significa di nuovo la paura della competizione e il fatto che non appena apri le porte è una gara è una corsa se è una gara è una corsa a produrre a fare perché altrimenti muori io capisco che da un punto di vista sia estremamente naturale sopravvivere quindi in sopravvivenza prevarichi spero che in qualche modo le condizioni non costringano questa naturale modo di reagire anche se brutto a farci tutti correre di nuovo io io credo che molti di noi abbiano un po' le palle piede di come si viveva prima per cui anche questa settimana qua per chi poteva uscire io ho sempre potuto uscire per il mio per il fatto che insomma ho uno studio che in base a quello che faccio comunque potevo muovermi non mi sono mai mosso non mi sono mosso neanche questa settimana non me ne frega niente io ho deciso che anche se il mondo decide di correre in un certo modo io comunque ho trovato una mia dimensione e voglio provare a vedere se questa dimensione è applicabile nel mondo nuovo indipendentemente da quanto gli altri si ammazzino oppure no poi il problema è che il mio mondo è anche loro quindi io che vorrei comunque che le cose venissero gestite in un certo modo sul pianeta quello mi fa paura dai cosa pensi al riguardo ma io guardo onestamente credo che la cosa più intelligente da fare sarebbe riuscire a capire che è una cosa che vabbè non è che lo dico io che sono il genio ma ci dici c'è un pezzo bisogna capire che bisogna conviverci con questa situazione non bisogna né viverla con paura ma nemmeno viverla con meno felismo io alle volte ho dei momenti di sconforto tremendi perché mi rendo conto che la mia situazione lavorativa la mia situazione economica futura non dipenderà esclusivamente da me ma dipenderà anche da tutta una serie di da come si comportano anche le altre persone esatto la paura che abbiamo che ci sia di nuovo un'impernata di casi nelle prossime settimane è una paura concreta non bisogna esserne terrorizzati però bisogna sapere che c'è una buona probabilità che tornino a salire dobbiamo capire di quanto saliranno ok se saliranno e di quanto saliranno i casi il fatto che non dipenda direttamente da me molte persone dicono cioè sottovalutano la cosa e se fosse solo una questione di vabbè la sottovalutano loro stanno male loro a me non interessa si chiuderebbe lì il discorso mi dispiace io cerco di darti le informazioni se poi non le cogli è un problema tuo però nel momento in cui si inalza il picco si infettano più persone queste persone infettano ancora più persone e questo tutto questo aumentare di casi poi costringe me a stare chiuso in casa e magari perdere il lavoro di conseguenza nel momento in cui vedo delle situazioni perché purtroppo ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni di quelli che fanno i furti fanno le genialate come il genio che ha fatto finta di essere un infermiere e poi e poi l'ha pubblicato sui social per evitare oppure i fidanzatini che si vedono da ah ma io non ho mai fatto la quarantena in realtà ci vedavamo tutti i giorni fingendo di andare a fare che questa cosa mi dà molto fastidio e però sono conscio del fatto che questa cosa continuerà anche in futuro quello che forse è appunto la cosa più intelligente da fare è riuscire a mettere in testo alle persone che dobbiamo tornare ci saranno dobbiamo tornare alla normalità tra virgolette dobbiamo tornare sapendo che ci sono dei rischi che continueranno a esserci dei rischi anche abbastanza cospicui per un certo tempo e che dobbiamo valutarli esattamente come si fa il risk assessment in un'azienda lo devi fare anche nella tua vita personale è brutto perché ti metti a giocare con la vita non stai giocando cioè giocando tra virgolette non stai dicendo sto facendo un investimento di denaro stai facendo un investimento di salute che è ben diverso però di fatto in questo momento è l'unica strada perché non possiamo continuare a stare chiusi in casa anche se scientificamente sarebbe la scelta la migliore ma non possiamo nemmeno ripartire come se nulla fosse perché a quel punto buttiamo in vacca tutti questi tre mesi che siamo stati chiusi in casa e ricominciamo da capo facciamo due settimane fuori prendiamo la boccata d'aria poi ci richiudiamo tutti in casa e abbiamo un'altra riga di morti allucinanti però cioè anche vedo nel mio nel mio piccolo quando cerco di far capire alle persone come funzionano le mascherine molte persone partono con il preconcetto e non ti ascoltano e quindi quando una persona non ti ascolta come fai a comunicargli come si deve comportare perché non stiamo parlando di un gioco è il solito discorso che la scienza non è democratica la scienza è scienza quindi puoi applicarli in maniera diversa alla tua vita però se il virus ti contagia ti contagia non è che puoi dire no vabbè ma io sono sono fortunato non mi pretende sì sì esatto quindi è molto difficile rapportarci perché è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme tutti insieme dobbiamo capire qual è la direzione tutti condizionati da tutti e poi non solo non solo Italia ma anche estero cioè poi l'assurdità è che essendo in un paese in un mondo globalizzato non importa poi neanche tanto quanto sia il nostro ritmo se poi è così estremamente condizionato al ritmo dell'esterno cioè mettendo anche mettendoci anche in testa tutti quanti di voler cambiare il ritmo purtroppo poi la condizione del mercato esterno forzerà comunque le cose a meno che questa cosa non sia globale anche come pensiero e che purtroppo non è facile sì diciamo che forse la cosa positiva che potremmo trarre una delle poche cose positive che potremmo ottenere da questo periodo è proprio il fatto di capire che non sia cioè non dobbiamo essere egoisti non dobbiamo più essere egoisti ma dobbiamo ragionare in comunità cioè per il bene comune non per il bene del singolo però storicamente noi italiani non abbiamo una cultura di questo tipo molto individualisti quindi è molto difficile fare il salto non so se appunto l'amico il nonno che ci ha lasciato le penne possa essere una spinta sufficiente per capire questa cosa non ne sono convinto purtroppo d'accordo se arrivassero una nuova andata sarebbe l'ultima ma enorme no vabbè l'ultima no adesso non dobbiamo essere catastrofici però anzi onestamente credo che sarebbe sensibilmente meno problematica di quella che abbiamo avuto adesso però comunque cioè le vite sono vite cioè non è che se muoiono dieci persone invece che duecento allora va bene sono sempre persone che se non se non fossero state contagiate avrebbero continuato a vivere finché potevano e quindi cioè morire perché non riusciamo a gestire una cosa come questa è un po' sciocco no nel momento che in realtà possiamo farlo possiamo gestire la cosa in maniera corretta è solo questione di mettersi in testa che dobbiamo farlo tutti insieme ecco molto vero molto vero le fake news sono la peggior piaga sai come partendo da pochi casi in pochi giorni siamo arrivati a duecentomila partendo da duecentomila finisce tutto alla svelta no no fortunatamente non è così la cosa più grave e preoccupante per me in questo periodo è le esplosioni delle fake news e quante persone la facciano girare ora se la sono presa pure col povero Bill Gates ma vabbè ma ci sta sempre bene Bill Gates buttalo in mezzo a caso in un discorso e ci sta sempre comunque fare questo fake news è di nuovo il lamentarsene o fare qualcosa no cioè quando quando si scherza sui social anche quando prima scherzavamo per esempio su TikTok uno può decidere di essere contrario rispetto a un social oppure decidere che quel social è un avvenimento della propria era ok cioè e prenderlo come tale se quel social esiste e in quel social ci sono persone quel social produrrà comunicazione di qualche tipo se vuoi fare qualcosa a riguardo e renderlo più bello l'unica cosa che puoi fare è esserci e cambiare le cose se invece si dice no vabbè ma è un social di merda lo usano solo i bambini e poi lasci che lo usino solo i bambini e che ne approfitti gente che che non si fa scrupoli diciamo esatto e lì poi ti cresce una generazione di merda cioè è molto è molto semplice il discorso per cui anche una settimana fa parlavo con un over 60 che mi diceva che aveva la figlia di 11 anni e aveva visto YouTube sempre con una certa ottica ed era mi aveva fatto tanti complimenti perché ha detto cavolo quindi c'è qualcuno che sta tentando e gli ho detto ma no ma guarda che non è che c'è qualcuno ce ne sono tantissimi cioè YouTube è come dire il mondo è il secondo motore di ricerca più grande del mondo quindi è come dire il mondo fa schifo perché c'è solo Sailor Moon adesso dico una roba un po' da ok e perché sì ma perché se guardi attraverso gli occhi di un bambino vedrai quelle come interessi quindi una persona che guarda YouTube attraverso gli occhi di una figlia molto giovane crede che YouTube sia quello ma no è un mondo quindi vai da un'altra parte e troverai un'altra cosa il punto è se capiamo che questi sono tutti mondi sono tutte dimensioni all'interno delle quali se ci siamo possiamo provocare la controinformazione in senso positivo cioè le fake news fai fatica ad abbatterle con le leggi fai fatica ad abbatterle con la censura perché è il concetto centrale delle notizie no cioè il liberalismo e contro il liberalismo diceva dice a Rari cioè il fatto che si combatte il liberalismo con il liberalismo tu vuoi controllare le news ma in verità vuoi la democrazia vuoi che tutto sia libero a disposizione di tutti e beh però le due cose come fanno a funzionare per cui l'unico modo per mantenere qualcosa di democratico e bilanciarlo è fare in modo che le persone poi combattino queste fake news con delle real news e si inizi a certificare no in qualche modo anche in maniera semplicemente molto molto basilare il fatto che seguo quella persona perché di quella persona mi fido seguo quest'altra perché di quella mi fido e sempre stando attenti che le persone poi non si muotrano le teste di conseguenza e cose del genere però questa è una cosa di cui discutiamo spesso tra di noi tra divulgatori in senso in senso stretto divulgatori scientifici in senso stretto diciamo che siamo sempre nel limbo anche perché appunto c'è molta autocritica perché vogliamo in un certo senso lasciare un qualcosa di positivo non esserci tanto per e c'è appunto quel discorso di dire ma se la persona comincia a fidarsi troppo di te a quel punto se spari una cagata manco se ne accorge e quindi quello che cerchiamo sempre di stimolare è una corretta criticità essere critici con tutto quello che ti viene detto che te lo dica lo zio che te lo dica il tizio che segui su youtube che te lo dica il divulgatore su instagram perché anche noi sbagliamo siamo esseri umani magari abbiamo dei preconcetti che ci fanno dire delle cavolate se citiamo un dato da uno studio ok il dato è il dato e va preso così com'è però attenzione se parlassimo solo di dati non ci seguirebbe nessuno perché i dati vanno calati nella vita di tutti i giorni altrimenti ci si rompe le palle basta insomma nessuno nessuno seguirebbe quindi anche lì quando tu poi fai la trasposizione cerchi di mandare un messaggio quindi che ne so migliorare la tua salute migliorare il tuo stile di vita capire che quella cosa lì è una fake news piuttosto che no però appunto c'è sempre la paura anche da parte di chi crea questi contenuti poi di andare a diventare più un influencer che un divulgatore c'è sempre lì il rischio quello è molto vero ed è un pensiero molto cioè che vi fa molto onore fare questo tipo di discorsi da un altro punto di vista provo a metterti una pulce da inserire la prossima volta che farete una discussione perché è un argomento dove io invece continuo a battermi ne ho parlato anche quella volta da Monti quando dicevo che la scienza è scetticismo organizzato che è una parola che è una frase che continuo a dire perché è una frase che secondo me significa tantissime cose cioè la scienza va talmente con i piedi per terra con talmente tanta attenzione spesso nel pronunciarsi ok che quando si pronuncia non ha la stessa forza che hanno appunto le fake news che hanno un po' storie e cose del genere per cui nella cruda realtà come parlavamo prima del fatto che la scienza è cruda che il mercato è cruda quindi la realtà cruda dice che se tu non sei interessante io non è che non ascolto te io ascolto qualcun altro cioè io cambio canale perché sui social è così per cui per me è molto bello l'autocritica è molto bello il dosare bene tutti gli ingredienti ma secondo me è importantissimo ottenere anche come ingrediente il fatto di esserci comunque e di un po' lanciarsi nel senso che il margine d'errore non deve essere ridotto a zero questo è il punto cioè se si spingesse tanto anche il concetto più che altro se vuoi di essere umano sono un essere umano che ti parla per cui come umano se sbaglio domani mi ritroverai a dire che ho sbagliato la cosa di ieri non è morto nessuno cioè io comunque comunico con te anche domani e prima o poi se ho detto una castronerie me ne renderò conto quindi non si tratta di fare così tanta attenzione da non dire castronerie ma magari di ovviamente tentare di ridurre il margine d'errore a zero ma se capita il giorno dopo andare a recuperare quantomeno però mantenere la linea di connessione che c'è con la community perché altrimenti veramente la cosa che a me dispiace di più è che comunque le fake news hanno il gioco forza di attirare per tutta una serie di ingredienti che utilizzano è una via di comunicazione pazzesca cioè è come dire leggere una poesia e recitarla cioè sono due cose completamente diverse hai una forza tale esatto per cui io non voglio dire che quindi la scienza deve andare verso quel modo di fare neanche per sogno però secondo me la scienza è sempre perfezionistica in come si vuole cioè arriva solo fino a un certo punto perché quella cosa lì la può dire in quel modo e in quel modo solo si dice ok io lo so prova prova a interpretare quello prova ad interpretare quello che intendono cioè è un po' lo sporcarsi le mani ma non nel senso di dirne ogni tanto una che non va ma forse di divulgare lo stesso concetto della divulgazione scientifica cioè come hai detto te prima divulgare il fatto di dire guarda che se divulgo la scienza non vuol dire che mi devi prendere per filo per segno quello che dico però seguimi perché se sbaglio qualcosa domani ti dico che ho sbagliato ma di me ti puoi in qualche modo fidare nel lungo termine e segui anche altri tentiamo di creare una sorta di dibattito esatto sì diciamo questa è la via che fino adesso abbiamo trovato cioè quella di intanto appoggiarci l'un l'altro perché ovviamente in scienza ognuno c'è il suo settore non è che puoi spaziare puoi spaziare un po' ma non troppo ovviamente e di conseguenza già il fatto di mi scrive qualcuno chiedendomi una cosa che io non so io lo dico sempre ragazzi non stupitevi io molte volte vi risponderò che non so rispondervi ma non prendetemi come per uno che ah vabbè allora non sai niente no è semplicemente che se non so una cosa non te la dico cioè non sto a provare perché sarebbe scorretto da parte mia visto che io per primo dico bisogna che una persona quando ti dice una cosa sappia di che cosa sta parlando però sì non è semplice riuscire a barcamenarsi tra questi due aspetti quindi è la correttezza dell'informazione che io passo e il veicolo cioè il modo in cui te la mando che alle volte ti spinge a compiere degli errori in buona fede ovviamente l'altra arma che abbiamo è magari utilizzare è la letteratura cioè se noi portiamo una tematica un'argomentazione poi noi abbiamo la base dietro cioè noi abbiamo degli articoli della letteratura per cui le persone possono verificare quello che stanno dicendo e è quello che fondamentalmente manca le fake news le fake news sono degli input che ti vengono dati ma se tu chiedi informazioni non ti verranno mai da ti diranno no no ma è così fidati no 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 fidati io non mi fido di te mi devo fidare di te però ovviamente non è sempre praticabile un po' per il fatto che tanto bisogna saper leggere la letteratura che non è semplice è alla portata di tutti però non è facile e poi hai il fatto che delle volte il sistema si rivalta cioè se tizio ti dice una fake news gli credi a prescindere se io ti dico una cosa opposta alla sua sono io che ti devo dimostrare il perché va bene ma va bene fino a un certo punto cioè nel senso si ma ascolta ma chiedi a lui le prove chiedi le prove fatti dimostrare che le cose stanno come dicono a lui le leggo anch'io e poi ne discutiamo il terrapiattismo qua la fa da padrone ho capito cioè a quel punto casca al palco però sì non è semplice forse non abbiamo ancora trovato la quadra anzi sicuramente c'è l'unica critica io sono sempre stato fin da piccolo proprio amante della scienza non finire proprio come filosofia di vita in un certo senso una cosa che solo negli ultimi mesi sto iniziando a sentire come critica che faccio nei confronti qualcosa che ho sempre amato è che intanto ha annebbiato mondo ha annebbiato molto la filosofia cioè noi non filosofiamo più cioè noi parliamo di filosofi oppure facciamo i politici però però di filosofia non si parla più non si parla più perché o qualcosa è provato o che cosa stai dicendo oppure pseudoscienza e invece io ultimamente faccio spesso questo discorso perché mi trovo spesso a farmi delle domande che una volta non mi facevo per niente tipo anche con Stefano Tiozzo parlavamo di di destino per esempio allora io ovviamente sono partito dicendo esperimento di Libet neuroscienze cosa dicono nei confronti del determinismo e del libero arbitrio nonostante io non sia uno psicologo e continuo a ripeterlo è quello che io ho studiato ripeto molto semplicemente perché l'ho trovato molto interessante però poi non riesco a non dire aspetta io ho 8 anni di vita rimasti e la scienza non mi darà queste risposte nella mia vita nel mio tempo non ce la farà a darmene per cui devo scegliere se non averne ok se decidere di non rispondermi a questa cosa o se utilizzare la filosofia cioè pensare a come secondo me le cose sono senza che debba essere un qualcosa su cui devo convincere qualcun altro è un discorso aperto dove come si faceva una volta io dico proponiamo che le cose siano così e si porta un discorso a crescere in questo senso qua si copre un po' quello che nessuno può coprire e che tu sai che quando lo copri lo fai solamente pennellando un canvas che il giorno dopo torna a essere bianco di nuovo non c'è nulla che viene registrato e quindi qualcosa diventa così perché l'ha detto per cui quello è un aspetto e l'altro e l'altro è il fatto che la scienza è sempre un po' questa è una cosa che veramente sto notando che sta iniziando a cambiare soprattutto grazie ai social ma altrimenti è un linguaggio da e per le stesse persone cioè ha sempre questo livello di accessibilità molto difficile dei bambini di 12-13 anni non potrebbero mai guardarsi leggersi una pubblicazione scientifica no certo ed è un peccato perché cavolo a 14 anni iniziano proprio le prime passioni anche io mi ricordo che era così per cui o avevi il sussidiario le tue robette oppure però se vuoi andare ora che capisci che ci sono i fake news e quindi devi stare attento alle fonti e quindi le pubblicazioni scientifiche sarebbero anche un ottimo posto dove andare ma come fai lì c'è proprio quello di accesso che è difficile quindi sì dopo in quella situazione se ti va bene si appoggiano su un che non so un focus che ok non sarà il massimo del rigore però comunque almeno diciamo che qualcosa di buono lo fa e quindi lima anche un pochino la sterilità dell'ambiente scientifico te lo rende più accattivante e quindi i ragazzi si possono interessare se ti fa male vanno a beccarsi qualche fake news appunto che trovano su facebook che è il peggio del peggio sì infatti ma infatti lì dovrebbe essere intesa a livelli anche la scienza dovrebbe non solo dare risposte ma dovrebbe anche in qualche modo interessare cioè prendi tiktok proprio per andare concreti cioè tu su tiktok non ti puoi aspettare di divulgare la scienza quello che tu puoi fare però su tiktok è rendere curiosi le persone e far venire voglia a un bambino di saperne di più se tu riesci a fare questa cosa poi in quel minuto tu per 50 secondi puoi fare tutto il tuo bel gioco per fare in modo di attirare attenzione su qualcosa che può essere veramente bello da sapere e poi gli ultimi dieci secondi gli dici dove andare a vederti più e quello è un ottimo modo per arrivare a certe persone per cui è inutile pensare che ci sia solo sempre un linguaggio perché è aulico solenne e non c'è nessun altro modo di dire le cose ci sono dei linguaggi diversi a seconda di quale sia l'audience e anche l'obiettivo che hai che è una cosa centrale anch'io nel mio io sono tanto sempre la mia autocritica per esempio quello che faccio io è tremenda perché io ho un alto tasso di coinvolgimento barra intrattenimento che lo sappiamo tutti io e te penso che da questo punto di vista possiamo anche ritenerci simili quando senti quel tipo di cose io non mi guarderei mai cioè quando tu hai quel tipo di video lì quando hai quel tipo di video lì che dici vabbè dai io preferirei uno noioso capito che mi dice le cose perché sono più tranquillo io adesso sto tentando di abbattere un po' questa cosa cioè il sistema di intrattenimento non significa per forza che il contenuto sia a perdere cioè che sia un contenuto non perfetto non è un modo per coprire qualcos'altro che non hai fatto bene le due cose uno più uno può fare tre e questo è un aspetto su cui lo dico perché io combatto ogni mattina come stesso su questo discorso cioè per continuare a decidere di fare questa cosa qua continuo a dire chi lo ha detto che se io dico una cosa scherzando sia meno vera chi l'ha detto che se faccio il pirla dicendo qualcosa è vero per citarne uno in merito barbascura ne ha fatto la sua basiera esatto beh ma prendi il modo di pensare di Einstein anche nel suo modo lui diceva sono solo una persona curiosa di tante cose lui si sentiva sempre molto 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 semplice da quel punto di vista forse fino a un certo punto però quello secondo me è un po' il togliersi un po' la cravatta la cravatta perché poi se no le fake news arrivano anche così quello che si cravatta bene e tu gli dai retta no perché solo perché è serio no non funziona così no 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 infatti infatti perché poi bisogna stare attenti anche al linguaggio che viene usato le modalità insomma non è semplice e forse bisogna esatto essere anche molto lungimiranti riuscire a capire qual è qual è l'utilità di ciascun mezzo che che abbiamo a disposizione insomma quindi nel suo piccolo per assurdo anche un tiktok può essere può essere utile cioè Denise Calzorari che è un ingiennista dentale che seguo che lei appunto utilizza utilizza tiktok e e appunto riesce a rendere accattivante una cosa che secondo me ti giuro non so come faccia perché per me appunto l'argomento l'argomento denti e igiene della bocca per me è la mia nemisi praticamente ma riesce a renderlo interessante e riesce a renderlo interessante per dei bambini per dei ragazzi quindi anche lì cioè tanto di cappello nel senso che non è semplice assolutamente però è forse il modo più giusto cioè riuscire ad adattare sia il il veicolo sia il quello che vuoi comunicare al target e al al mezzo che stai utilizzando al social che stai utilizzando in quel momento per essere più efficienti più efficienti possibili guarda io ho un esperimento che ho fatto su tiktok che è quello degli aforismi e dei miti l'altro ieri ho buttato fuori il mito di De De Lo Icaro e ovviamente siccome hai un minuto per dire le cose e soprattutto parliamo di miti per cui sono anche aperte interpretazioni ma quel libro direbbe che ma quella situazione direbbe altro ovviamente c'è chi ti dice ma sì però bisognerebbe forse no bisognerebbe niente stai parlando a dei ragazzi stimolali sul fatto che c'è una storia interessantissima che io ti dico in un minuto ma che te la puoi andare a leggere a studiare e tra l'altro sono stato molto felice perché quel video fa 15.000 visite quindi è anche un po' esploso nonostante io non sia nessuno su tiktok perché sono partito da poco però lì vedi quanto impacchettare le cose in un certo modo anche già solo per l'algoritmo di tiktok permette a un video di mito greco rispetto a magari il balletto di portarsi davanti e tu lì non stai facendo altro che dare un'opportunità a tot persone che ti hanno visto di aver imparato qualcosa invece che la solita roba che la solita roba ci sta anche cioè tiktok ma venga ma va bene anche quello beh infatti pensano che l'impara giocando sia solo per i bambini ma cosa fa più volentieri le cose ma cosa fai più volentieri le cose che ti divertono o le cose pesanti guarda è il centro di tutto quello che io studio cioè io a me piace chiamare la scienza dello storytelling perché collega tanti tanti punti assieme e il tema centrale di tutto è la motivazione intrinseca che è un un termine molto usato nelle neuroscienze per spiegare che il piacere dell'esperienza provoca motivazione intrinseca quindi il gioco è l'elemento migliore a qualunque età per apprendere è per quello che si vince con la leggerezza con 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 l'engagement con il divertimento quello funziona ok allora vediamo se mi sono perso qualche qualche messaggino l'abito non fa il monaco ovviamente sei coinvolgente parlano con te ovviamente non parlano con me i digirelli fanno una bella copiata ok no vabbè questo è un altro discorso per quello facciamo ah sì giusto perché per questo facciamo le live in pigiama qua su sandwich sì no infatti lui è il campione nazionale di pigiama assolutamente no no ma lo seguo lui lo sa che lo seguo nelle storie quindi cosa sei al giorno 512 dottor dottor cinghetti esatto sì più o meno eh no lì di scherza lui l'ha iniziata molto presto la quarantena quindi è tosta è tosta vabbè dai incrociamo incrociamo le dita e stiamo attenti mi faceva sorridere di senso dopo so che si prende in giro anche lui senza problemi ma quando veniva lanciato qua e là per fare servizi e poi gli saltavano che era quel primo periodo in quei primi giorni è tremendo è tremendo io ogni tanto ci scriveva ma era era completamente fulminato cioè non non riusciva più a seguire perché aveva mille cose doveva si no devo andare di qua devo andare di là poi saltavano gli incontri mi ricordo quando ho aspettato quelli di credo fossero quelli di Agorà Roby che ti hanno fatto aspettare fuori al freddo ad un certo punto ho detto beh sai che c'è io freddo torna in casa ma giustamente cioè quando ti fanno ti chiedono di collegarti alle nove sono le dieci e mezza non ci sono ancora collegati ti dicono guarda non so storie italiane era ecco quella è una speranza che io ho totale rispetto a questo periodo qua abbiamo avuto e abbiamo ancora un'opportunità per dare forza al mondo social rispetto al mondo della televisione convenzionale e sta capitando io sento che sta capitando tanto sento troppa gente dire non guardo più la tv ovviamente soprattutto tra i giovani ovvio che poi non guardo ancora forte ma vai a guardare le generazioni e chi poi cambierà il mondo come generazione per cui è ovvio che c'è ancora Barbara D'Urso là fuori ma chi guarda Barbara D'Urso non ha neanche più potere decisionale oramai per cui secondo me infatti io adoro Twitch da questo punto di vista cioè rischia veramente di poter essere un posto dove guardarsi la nuova tv a seconda sì 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 assolutamente sì 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 infatti un po' di tempo fa parlavo appunto con oddio adesso mi sfuggia il nome con uno proprio degli autori di EPCC e appunto era venuto a fare una conferenza insomma una chiacchierata così ad un certo punto l'ho braccato e gli faccio ma ascolta ma secondo te è fattibile tirare su un programma del genere rimanendo in ambito appunto nell'internet insomma senza andare in tv e lui molto chiaramente mi fa ma guarda sicuramente è fattibile perché è fattibile però bisogna trovare il modello come si dice il business plan bisogna trovare il modo per nel momento in cui ci si guadagnerà da questa cosa ovviamente ci sarà il boom anche da questo punto di vista perché perché ovviamente adesso chi fa i soldi su su Twitch sono chi streama videogame e qualcuno che fa just chatting ma non è non è un prodotto è un chiacchierata del più del meno parlando di altre trasmissioni di Twitch parlando di altre persone di Twitch invitando personaggi controversi quindi sì è ovvio che fa parte anche questo dell'intrattenimento però attualmente fare qualcosa di un attimo più strutturato è complesso perché appunto non hai una delle cose che potrebbe cambiare tutto sarebbe se la pubblicità non fosse monopolizzata dallo strumento che utilizzi cioè se guardi la televisione la televisione provoca un'esplosione di un programma anziché un altro perché crea audience e l'audience è quella che poi si guarda la pubblicità che gira però questa cosa qua fintanto che è controllata dagli algoritmi avrà sempre una crescita che è uniforme per tutti i canali non ci sarà il canale che esplode a quel punto di vista lo può fare in collaborazione con aziende che creano product placement e quindi ti danno dei soldi e quindi crei un canale con degli autori dietro che ti aiuta un po' ma non basta però la forza che hanno i social soprattutto Twitch rispetto alla tv convenzionale è l'interazione cioè su questo non ci piove è un'interazione fortissima e Cilietti dice che ha parlato con Italian Sports Channel che effettivamente è un canale che sto seguendo ultimamente e praticamente stanno facendo dei test per spostarsi dalla tv a Twitch no qua dice per poi passare in tv sì scusa sì scusa ho fatto l'inverso cioè stanno testando un futuro programma tv qui su Twitch però io non ho ancora capito l'utilità di questa cosa cioè tu cambi completamente pubblico ma cambi pubblico nell'arco di 40 anni d'età infatti infatti quindi non ho ben capito il senso di questa cosa però se lo fanno evidentemente io so per esempio io so che Sky sta guardando youtubers perché ovviamente vuol dire portarsi dietro community intera stavo leggendo mica metilo tu sei stato un suo ospite sei stato fiero di esserlo parla della Barbara D'Urso infatti è vero dimmi di notorietà anche se preso di spalle l'ospite inconsapevole fatemela dire tutta mi ha chiamato la dottoressa di Martino e mi fa ascolta potresti venire mezz'ora prima e gli ho detto porca miseria va bene ci provo ma pensavo fosse roba seria e ho detto cosa è successo no perché vorremmo fare delle riprese a Martino perché è un bel gatto ho detto vabbè poi detto da questa professoressa che se parliamo di scienza questa è proprio estrema cioè è proprio una che non capisce neanche le emozioni niente ecco ho detto ma sì dobbiamo fare un video ho detto vabbè sarà il video di questo posto che fa vedere come trattano gli animali eccetera vabbè guarda mentre siamo aspettiamo sempre mezz'ora in sala d'attesa io Martino fate le due riprese poi Martino non stava bene per cui l'avevo portato apposta per quello e la dottoressa vedendolo insomma ha iniziato a stare attenta a Martino a dimenticarsi tutto quello che seguiva e neanche lei sapeva che in verità era appunto un'inviata tale Ilaria della Barbara D'Urso per cui io ho assistito questa situazione che non ho detto nei social dove praticamente ero in sala d'attesa e c'era questa inviata che continuava a correre destra e manca dicendo a tutti dove dovevano essere questo posto ha anche una piscina per i cani per fare i fisici e ha fatto mettere in acqua gli ha fatto fare un mare di robe e c'era il direttore in questo posto consideriamo che è la clinica più grande d'Europa questa e gli ha fatto parlare al direttore e gli ha detto guarda allora devi dire questo devi fare questo e gli ha fatto tenere un gatto all'interno di un trasportino per almeno 40 minuti perché Barbara D'Urso stava parlando di altro io ancora non sapevo che era Barbara D'Urso in un momento lì a un certo punto il direttore si è alzato e ha detto qui non si lavora così e ha preso e ha mollato tutto è andato via incazzato anche l'inviata preoccupatissima non sapeva cosa fare perché stava per arrivare Barbara D'Urso anche un altro tizio si mette al suo posto e dice vabbè faccio io e passano altri 20 minuti una roba ridicola e poi il collega del direttore fa se vuole lo richiamo e l'inviata fa no 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 che non si sa mai che cosa dice poi in live questo esatto poi ci sono stati quei 10 secondi di 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 cosa di live che è stato vabbè sì ma sono le tempistiche della tv che sono sempre sballate è una cosa che poi vabbè la Rai credo che sia da quel punto di vista la peggiore di tutte però anche anche me e di sette altri canali hanno diversi problemi sull'organizzare le tempistiche si prendono con largo anticipo finché è il tempo degli altri quando invece è il tempo loro che mettono in gioco ovviamente arrivano gli ultimi cinque minuti prima della di partire in diretta e tu dici vabbè ok però sì ma poi la comicità di come ti prendono tipo Riccardo Zanetti che non so se conosci che è un caro amico ecco lui era stato chiamato mi pare che fosse lui sì che era lui era stato chiamato da non mi ricordo che programma su Rete4 per parlare di veganesimo dei vegani ok e perché? perché lui aveva fatto un video su YouTube 30 giorni da vegano come tre quarti degli YouTuber ok il punto è che io avevo seguito la storia del farzo vegano o di qualcuna mi pareva fosse il farzo vegano che in diretta di Instagram cioè in una storia di Instagram fa vedere che viene chiamato dallo stesso programma e dice alla tipa io non vengo a farmi scuoiare da voi vivo perché so già come funziona e conosco già queste dinamiche una volta che una serie di persone hanno detto di no a Rete4 Rete4 ha iniziato a chiamare gente a caso che ha chiamato Riccardo Zanetti io ho detto Riccardo ma Ricchi ma perché vai ma perché io volevo vivere l'esperienza lui è sempre un non prega niente io volevo vivere l'esperienza poi io dirò che non sono legato che non ne so niente è un problema loro se chiamano l'ospite sbagliato esatto quindi per dire che tipo di qualità poi hai e io lo vedo anche a livello aziendale ma sai quante volte ti chiamano per fare Forbes Forbes Francia mi ha chiamato per due anni consecutivi per fare un articolo su di noi e tu quando ti chiamano insomma dici cazzo è Forbes è Forbes Forbes che ti dice se mi dai 2000 euro io ti faccio un super articolo e tutte persone ti vedono e ti fanno tutta l'analisi di tutte le persone che ti vedono e io li calcio fuori a porta subito ogni volta poi dico ma cavolo mi date solo conferma che anche voi anche di voi non si può fidare vuol dire che gli articoli sono fatti in funzione dei pagamenti ma come si fa sì 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 assolutamente è il mondo alla rovescia cioè paghi per fare il tuo lavoro è una cosa assurda sì sì sono conosciuti in due mesi e sono davvero incredibili che cosa dove chi sì no no ma è comunque è tutto l'ambito televisivo che ormai secondo me dovrebbe essere un attimo revisionato poi mi fa ridere perché fanno i tentativi con Fiorello no capito ah beh facciamo finalmente il primo programma in streaming che voglio dire il primo di che il primo di cosa il primo con quel nome forse perché cioè di certo non sei il primo ma poi mi metti come presentatore per carità un grande presentatore ma di 60 anni a 60 anni l'uomo lì li porta da Dio ma a 60 anni beh ma guarda che questo io trovo che sia una cosa molto divertente questa perché perché non c'è cambio generazionale a tv perché siamo su youtube siamo su twitch siamo su instagram cioè non siamo in tv esatto esatto cioè nel senso adesso io non voglio né mettermi in una posizione in un podio né me né a te niente però insomma visto quello che c'è in tv anche io e te potremmo andare benissimo in tv a fare un programma il punto è che si preferiscono questi posti qua si preferisce un'interazione con la gente molto più reale è tutto molto più reale quindi a me diverte il fatto che continuino a girare sempre gli stessi quattro gatti in tv e non ci sia non c'è novità no abbastanza particolare come cosa si 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 sono sempre gli stessi poi vabbè per loro il concetto di coinvolgiamo i giovani significa chiamare il rap anzi scusa il rap capito chiami lui allora è un programma per giovani si ragazzi però se puoi Fiorello mi fa il monologo sulle battute che va dal dentista e rimane per una giornata che è la battuta più vecchia del mondo cioè capisci bene che non stai in piedi cioè c'è qualcosa che suona male no vabbè infatti quando l'ho visto ho detto ma per davvero ma lo sto è vera questa cosa è uno scherzo eppure è vera però vabbè chissà chissà magari un giorno ci sarà solo Twitch e un'altra piattaforma di streaming abbandoneremo completamente la tv io le trovo tutte emittenti Twitch è un vecchio Italia 1 YouTube è un vecchio canale 5 ci sono tutte emittenti diversi all'interno del quale trovi poi i vari programmi e ognuna ha la sua chiave di lettura un po' diversa dall'altra ovviamente tutto togliendosi poi dal paragone della tv convenzionale però per dire se le vedi dal punto di vista dell'emittente diventa interessante anche la gestione delle pubblicità ok è fuori è bello non lo fareste volentieri un programma alla Rai? tu lo faresti un programma alla Rai? ma io guarda per me sarebbe completamente irrilevante la scatola basta solo che mi fanno capire come devo lavorare poi di che per me quella roba lì possono vederla in due come in duemila basta che non vadano intaccare quello che devo fare o dire insomma penso che perché io sono abbastanza ignorante in questo io non ti so dire quanto cioè sì non andrei dalla d'urso come ho anche dovuto rendere chiaro perché le persone stavano veramente pensando che non andrei dalla d'urso per decisione proprio perché ci sono certe cose certe persone con cui non voglio lavorare per sì per partito preso perché ci sono certe cose che hanno fatto che non mi vanno però quando si parla di scatole dipende un po' da qual è il contesto sì no infatti spesso capita che contattino appunto qualcuno appunto del gruppo di divulgatori scientifici per andare alle iene e c'è questa situazione da un passo che ogni volta ci chiediamo l'un l'altro no me no perché non mi hanno mai chiamato non sono nessuno però che dicono ma come posso rispondergli senza essere offensivo cioè come faccio a fargli capire che non sono interessato a questo tipo di cose perché effettivamente ci sono determinati programmi che non si possono vedere cioè non hanno nessun tipo di etica giornalistica di alcun tipo è solo una questione di fare ascolti quindi qualsiasi cosa che faccia ascolti va bene neanche se sono baccate colossali e le iene in questo purtroppo hanno pescato tanti 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 errori colossali e soprattutto non hanno avuto l'intelligenza di ammettere l'errore e andare avanti ma hanno rimarcato che loro erano che avevano ragione che erano avevano comunque molto una aveva una chiave di lettura che poteva essere forte cioè comunque poteva essere veramente un bel modo di comunicare però poi come sempre quando vedi che una macchina va in quel modo la spingi di più esatto esatto perché poi alla fine l'obiettivo è quello insomma va bene ragazzo mio sono due ore e cinquanta ho visto aspetta qua dice mezzanotte ma quello è sempre sbagliato sì mezzanotte e cinque mezzanotte e cinque sì devo dare la pillola al buon Martino che sta ancora dormendo cioè pensa a te adesso questo si deve svegliare gli devo far ingoiare una pillola esatto poveretto però lo spara pillole quindi non gli da aspetta oddio cosa sarebbe lo spara pillole quindi mi stai dicendo che non metti la pastiglia nel boccone gliela cacci in bocca no un gatto non funziona così un gatto o apri e metti diretto dentro con la bocca ma a parte che rischi te ma è una cosa che poverini se lo devi fare ogni giorno una rottura oppure lo spara pillole questa sorta di siringhetta dove tu alla fine metti io devo dargli mezza pillola metti la mezza pillola su un buchetto e questa siringa non è una siringa reale è un pezzettino di plastica che quando tu lo premi spinge quella pillola fuori da dove tu l'hai incastrata quindi tu non fai altro che mettere questo tubicino in velocità in bocca appena un po' in bocca premi la pillola va verso la gola poi li massaggi giù un attimo così manda giù e in un secondo non si rende neanche conto di vai mickey in diretta dice se fossi bravo potrei no poverino dai non faccio adesso ti squarta in diretta così vicino vicino è un tamplex che non spara che non uno spara pillole sì 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 sono questi attrezzi che beh giustamente chi poteva avere uno spara pillole se non tu voglio dire esatto chi poteva avere come ho il taglia pillole il taglia pillole è geniale proprio quello funziona quello è veramente una favola ma tu gli acquisti li fai solo su Amazon o li fai anche su Wish? no su Amazon su Amazon solo su Amazon? no li ho fatti in passato anche su Wish ma queste cose qua su Amazon ma io io parto da YouTube ragazzi ma non perché debba difendere YouTube ma cavolo come dare una pillola a un gatto vedi una serie di veterinari che ti spiegano tutte le tecniche poi ti dicono se c'è una particolare difficoltà o si vuole c'è questo sistema qua ah e c'è lo spara pillole poi ti dicono se la pillola è piccola e quando la tagli in due si sgretola soprattutto con la maggior parte dei coltelli c'è lo spara pillole la spara pillole è una roba fatta a dritta a questa forma a vitù metti la pillola lì così è bella incastrata non si muove e quando chiudi col coperchio c'è questa lama che va a tagliare mentre tiene ferma la pillola così taglia a perfezione poi sposti e va dentro un piccolo contenitore e tu hai le pillole da dare a la prima fantastica questa cosa in realtà in futuro il tuo canale Twitch sarà un canale di pubblicità di tutti questi agg esatto potenzialmente sì comunque sto leggendo un messaggio che mi sto rendendo conto si può leggere in due modi come si dice dice io mai lavati Francesca oppure io mai lavati Francesca comunque ok non voglio sapere a chi si riferisse e a cosa si riferisse quando ero da solo a fare live domenica mi sono divertito a leggere a interpretare alcuni messaggi perché erano un po' un po' storti era molto divertente leggerli anche la scrittura sta cambiando con i social sta cambiando un casino io sono uno di quelli che rilegge sette volte il messaggio prima di inviarlo quindi mi rompe le balle quando sbaglio una live ora che esce si parla ad altro allora devi stare attento bisogna essere veloci va bene ragazzi allora io direi che è stata una bellissima chiacchierata e ci siamo divertiti abbiamo chiacchierato un po' di tutto random ci piace così insomma anche io ho lavato il mio gatto per cui parlano di lavare il gatto ormai è anarchia pura ognuno di ma sì c'era qualcuno prima che stava sclerando perché cercava di seguire quello che dicevamo in live e al contempo rispondeva tipo alla chat quindi aveva il cervello diviso metà e non riusciva più a capire a chi stava rispondendo bellissimo bellissimo ci piace così è stato un piacere averti ospite sul nostro canale ti ringrazio ti ringrazio ovviamente anch'io grazie di essere passato spero di vederti presto di rivederti presto grazie ti ricordo ragazzi Mico Delli Mico Delli anche qui su Twitch su dove è che non c'è in realtà non just mic non come tag non ho ancora capito però se scrivi Mico Delli tutto attaccato ti trova perfetto generalmente a parte su YouTube dove anche lì si scrive Mico Delli mi trovi ma anche TikTok eccetera esatto e just mic e qualcun altro tra l'altro su Twitch si ci hanno fregato il nick ecco vedi si no ma dopo devi fare la lotto per riuscire a dovere il tag giusto perché è un casino poi qui su Twitch lo puoi cambiare tipo una volta ogni sei mesi per cui è un macello devi sceglierti quello giusto va bene ragazzi mi sono il link mi sono il link ecco perfetto ma chi ha messo il link è Luigi quindi chi è che mette il link credo credo che l'abbia fatto Luigi sì 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 ok ok ah non sei stato tu ok perfetto è stato è stato il inizio e alla fine esatto esatto grazie anche grazie anche Luigi che si è messo a disposizione appunto per questa live che ormai sapete che lui è il tecnico di fiducia che tutte le casalinghe d'Italia vorrebbero nelle loro abitazioni e Luigi Roberto giusto da Luigi Roberto esatto da oggi ribattezzato Roberto no grazie grazie di nuovo è stato un piacere spero spero di di rivederti presto e andatelo a seguire perché le chiacchierate con Mick cioè ve lo dico è uno secondo me è uno io sono molto pignolo quando ascolto una persona è una delle poche persone che puoi metterlo lì e sentirlo parlare per tre ore come è questo il caso e come tante volte altre è il caso e non ti stufi perché comunque hai una capacità adesso non so se hai fatto studio o altre cose ma questo magari è argomento per un'altra un'altra diretta con te in cui saremo magari più tecnici però hai un modo coinvolgente di parlare questo ovviamente è anche è anche parte del tuo successo mi fa piacere grazie mille grazie piace piace anche questo va bene ragazzi basta se è fatta una certa abbiamo passato a mezzanotte i vicini mi verranno a bussare alla porta quindi vi devo salutare è stato un piacere la mia telecamera ha retto tra l'altro pazzesco pazzesco e ha retto esatto devi metterci il panetto di ghiaccio sotto va bene io vi lancio un ride alla madre dei draghi perché so che è in live in questo momento a fare a leggere il volume 1 del trono di spade quindi se volete seguire appunto questa questa serata così un po' un po' particolare che magari vi accompagna verso il letto vi fa compagnia io vi ride subito verso la madre di draghi potremmo scrivere in chat qualcosa del tipo Tyrion è uno sfigato una cosa del genere che la manda fuori di testa completamente ok allora rideiamo di là tutti quanti insieme ha una voce bellissima sì concordo beh sì è uno dei requisiti per poter leggere insomma in maniera piacevole vi saluto ragazzi e ci vediamo dall'altra parte ciao Mick ciao ciao a tutti grazie ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti